Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! Nicholas era di ottimo umore questa mattina. Ieri sera aveva chiesto a Mia di sposarlo e lei aveva accettato. Così il ragazzo si è incamminato verso il lavoro, sorridendo ai suoi pensieri mentre pensava agli imminenti e piacevoli problemi. Nei prossimi giorni i ragazzi sarebbero passati all'ufficio anagrafe per presentare la domanda ufficiale. Ma la data in cui fissare il matrimonio era ancora un problema. Non era molto auspicabile organizzare la celebrazione in inverno, quindi i giovani pensavano che si sarebbe potuto arrivare almeno fino a marzo. Lì la primavera può già arrivare con il bel tempo. Ora era ancora la fine di ottobre e faceva un caldo insolito per questa coppia, più di 15 anni. Nicholas camminava dalla metropolitana attraverso il parco cittadino e strizzava gli occhi marroni contro il sole, e la sua testa scura era leggermente bruciata dal sole. La natura intorno a lui era piacevole per la varietà dei colori. Ovunque c'erano foglie color rubino e dorate, con le quali i bambini giocavano, cospargendosi l'un l'altro e raccogliendone i mazzetti. Erano le vacanze e i bambini si divertivano all'aperto, godendosi la giornata calda. Le pennellate di verde erano aggiunte da grandi abiti e da una radura ricoperta di muschio. In mezzo a loro c'erano cani che correvano, si rincorrevano e giocavano con i loro padroni. Portavano fedelmente i bastoni. Palle colorate rimbalzavano e frisbee volavano. Nicholas amava i cani e ora stava ammirando questo vuoto di energia e di gioia. Un turchese uniforme completava la combinazione di colori autunnali con uno stagno. I cigni della zona non erano volati via verso climi più caldi e ora una dozzina di questi maestosi uccelli stavano tranquillamente navigando sulla superficie dell'acqua. Una coppia di cigni se ne stava a riva, separata da tutti gli altri e, a quanto pare, ammirava la bellezza circostante e l'altro. Proprio come me e mia. Nicholas pensò e decise di chiamare la sua fidanzata. Ciao, tesoro. Voglio condividere il mio buon umore. E Nicholas le raccontò della bellezza che vedeva intorno a sé. Spero che io e te vivremo come cigni, conservando l'amore e la fedeltà reciproca. Certo, amore mio! Mia Rais allegramente. Abbiamo tutta la vita davanti a noi. Saremo sempre insieme. Di certo nella mia scuola materna Shurya Muria non inizierà Shurya Muria. Ma anche se volessi, non c'è nessuno con cui farlo. Sto scherzando, sto scherzando. Mia insegnava musica ai bambini. Divo dazzazzatiatiati fiatiletiletni e ragazza lavoro non è troppo affezionato al suo lavoro, considerato temporaneo. Sulla strada per il suo sogno di esibirsi con una solida orchestra voleva grandi sale e tourne all'estero, non ascoltatori in calzamaglia su sedie di plastica. Ma c'era un lato positivo nell'asilo, come ha detto Mia ieri, con un promettente luccicchio nell'occhio verde e una scrollata ai suoi riccioli d'oro. Ma i miei figli saranno sempre sorvegliati. I sogni di Nicholas erano più modesti. Aveva due anni più di Mia, lavorava come architetto nel dipartimento, impegnato nella costruzione di oggetti per l'esercito. Il lavoro era interessante e vario, tanto da progettare un'unità militare con caserme, e poi un'area residenziale con case normali per le famiglie dei militari. Il posto di lavoro era quindi adatto a Nicholas, che avrebbe voluto crescere fino a diventare il capo del progetto, in modo da essere incaricato di essere responsabile di una costruzione su larga scala, per gestire tutto dall'inizio alla fine. Oggi, notando il suo buon umore, i suoi colleghi hanno iniziato a chiedergli il motivo e si sono congratulati con lui. Nicholas condivideva volentieri i suoi progetti. L'espressione ormai popolare «la felicità ama il silenzio» non lo riguardava affatto. Era una persona aperta, che per certi versi conservava un'ingenuità infantile. Credeva che il modo in cui ti comporti nei confronti del mondo, che gli dai lo stesso e ti ritorna indietro e le persone intorno a lui, viste gentili, sincere, senza una pietra dietro la schiena. Lui stesso era così, «Nicolas, puoi camminare un po' al chiese Jack, che era responsabile del progetto a cui stava lavorando. Devo portare i documenti alla metropolitana, al ministero, al nostro dipartimento per l'approvazione. Nessuno dei nostri ci andrà presto. Ma ho appena ricevuto una telefonata dall'ospedale militare. Un uomo sta viaggiando da loro e ci passerebbe dalla metropolitana per consegnarci i documenti. «Ci andrete?» «E pranza subito, poi puoi andare, così non devi correre avanti e indietro.» «Non posso dobre.» «Nicolas ha risposto.» «Sai, con il tempo che c'è oggi è un peccato non passeggiare nel parco mentre vado al lavoro.» «Bambini che corrono, felici della vita.» «E per qualche motivo ho avuto la strana sensazione di saltare la scuola.» «Sinceramente, non volevo andarmene.» «Quindi mi piacerebbe camminare di nuovo.» «E questo è quanto.» «Nicolas chiamò l'uomo dell'ospedale per calcolare l'ora.» «Il loro ufficio era in centro.» «L'uomo aveva un lungo viaggio in macchina.» «Nicolas stimò che l'appuntamento era a circa 40 minuti di distanza.» «E prese la strada lunga per la metropolitana, un po' l'incirchio, per camminare ancora una volta attraverso il parco in uno stato d'animo sognante con il sole appena sbiadito e leggermente ardente. Si stava già dirigendo verso l'uscita. Con occhio professionale valutò i cancelli del parco. Erano stati costruiti in epoca sovietica. Erano grandi colonne di cemento con stucchi e anfore contegole tra di loro. La sovrapposizione in cima imitava una terrazza decorata con una polestrada, anche se ovviamente era impossibile arrivarci e percorrerla a causa dell'altezza. Nichols ammirava questo pezzo di architettura e allo stesso tempo, da semplice abitante della città, era un po' l'infastidito dalle auto visibili dietro le colonne e i cancelli. Da qui, secondo l'idea dei creatori, avrebbe dovuto esserci una meravigliosa vista sul viale. Ma tutto è bloccato dalle auto parcheggiate intorno al parco, in violazione di tutte le regole. Non è sicuro. Ci sono così tanti bambini che corrono in giro. Pensò a Nicholas e poi vide i suoi pensieri diventare realtà. Con la coda dell'occhio vide una ragazza in sella a un monopattino sul marciapiede sul lato destro della tranquilla strada che costeggiava il parco. All'improvviso saltò fuori nella careggiata. La strada era in pendenza. La bambina stava scendendo e ovviamente non poteva rallentare. Davanti a lei c'era un viale molto trafficato e già volava letteralmente laddove i bambini guidatori non potevano vedere da dietro le auto ferme. Stava per succedere un disastro. Non c'era tempo per pensare. In un secondo Nicholas si decise e fece un passo sulla strada per intercettare lo scooter allargando le mani. La ragazza lo notò e nei suoi occhi confusi balenò la speranza. La bambina riuscì in qualche modo a girare un po' e il manubrio e ora volava dritta verso Nicholas. In quel momento il ragazzo sentì una forte scossa alla schiena. Il monopattino si schiantò contro di lui da davanti. Nicholas ebbe il tempo di rendersi conto che stava cadendo in avanti e stava schiacciando la bambina. Gettò la ragazza a destra sul marciapiede e subito scese un velo nero. Nicholas riprese conoscenza solo in ospedale. Una mia in lacrime era seduta accanto a lui. Sono al cinema. Trovata la forza di sorridere il ragazzo cade, svegliandosi di getto. Che cosa è successo? Devo essere stato investito da un'auto. Mia, non piangere, sono vivo. Guarirà prima del matrimonio. Nicholas, sì, sei stato investito, ma non da un'auto, bensì da un autobus, disse la ragazza. Ti hanno portato qui privo di sensi. L'operazione è stata completata solo al tramonto. Hanno detto che ti saresti ripreso entro domattina e mi hanno fatto sedere con te. Di solito non ti fanno entrare dopo queste operazioni. Ma mi hanno fatto entrare qui, perché va bene, parla con il dottore. Mia si sta freneticamente preparando. Vado già al lavoro, aspetta. La ragazza si alzò, prese la sua borsa e se ne andò. L'infermiera, una donna di età gradevole, magra, con un taglio di capelli corto, entrò. Oh, sei sveglia? È un bene! Disse allegramente. Quindi, ora antidolorifico e flebo, mentre il glucosio si rafforza dopo l'operazione. E poi, qualsiasi cosa il medico vi prescriva, sarete curati da Oliver. È lui che ha fatto l'intervento. Verrà presto a raccontarvi tutto. Quindi faremo una flebo di glucosio e aspetteremo. Esatto, rispose Nicholas in tono militare, e sorridendo. Tuttavia, nei suoi occhi balenò subito la preoccupazione. E la ragazza? Non lo sa. È stata investita da un'auto. Sì, sì, interruppe l'infermiera. Sappiamo della sua impresa. Buon per te che non hai avuto paura. La bambina non sta male. Ci siamo chiesti, pensavamo che l'avreste chiesto in seconda infermeria. È ricoverata in traumatologia. Ha un braccio rotto, ma la prognosi è favorevole. 20 minuti dopo abbiamo sentito l'odore del cibo dell'ospedale. Alle otto del mattino era prevista la colazione. I pazienti si dirigevano verso la sala da pranzo, passando davanti alla stanza di Nicholas. Era una stanza post-operatoria e vi giaceva un altro uomo. Era silenzioso, si muoveva a malapena, girandosi pesantemente da una parte all'altra. A quanto pare non si era ancora ripreso dall'anestesia. La colazione fu portata a lui e a Nicholas nel reparto. Non era un pasto vero e proprio, solo un intruglio di farina d'avena. Era l'unica cosa che avrebbero dovuto mangiare dopo l'operazione. Anche se Nicholas era già terribilmente affamato. Quindi niente sale, niente zucchero, nemmeno farina d'avena. Solo una massa viscida che gli sembrava molto buona. Almeno, il suo stomaco brontolante si calmò mentre guardava il suo compagno di reparto agitarsi. Nicholas aveva anche pensato di cambiare posizione. Ora era per metà seduto e per metà sdraiato sulla schiena sostenuta da cuscini. Pensò che avrebbe potuto fare un pisolino mentre aspettava il dottore e, per farlo, si abbassò e si girò su un fianco. Si chinò. Prese un cuscino da dietro la schiena, allungò la mano per metterlo accanto a sé sulla sedia, poi si sdraiò e lo spostò più comodamente. All'improvviso si rese conto che non riusciva a spostare il bacino dal letto, né a girarlo, né a muoverlo. Probabilmente, dopo l'operazione non tutto è ancora tornato alla normalità, pensò il ragazzo. Probabilmente, è per questo che mi hanno fatto sedere in modo che fosse comodo almeno mangiare. Nicolas rimise il cuscino dietro la schiena, si appoggiò un po' là allo schienale e si appisolò. Con un ago da flebo nel braccio. Nicolas, per favore, svegliati! Una voce maschile calma fece uscire Nicolas dalla casa. Il ragazzo aprì gli occhi. Un uomo basso con i capelli rossi e un camice bianco era in piedi al capezzale del letto. Sono il tuo medico, dobbiamo parlare. Accostò una sedia e si sedette. È una conversazione lunga e seria. Di solito facciamo queste conversazioni in privato. È la riservatezza medico-paziente. Ma non puoi uscire dalla stanza e il tuo vicino sta dormendo. Quindi parleremo qui. A Nicolas cominciava a non piacere la faccia seria del dottore. Sentiva che la tensione cominciava a trasmettergliela. Nicolas, sei stato investito da un autobus. Immagino che non l'abbia visto. Dalla natura della lesione, l'impatto è avvenuto da dietro, all'altezza dell'osso sacro. In quell'area ci sono molte terminazioni nervose. Ora sono gravemente danneggiate. Ci fu una pausa. Il medico stava ovviamente cercando le parole. Il midollo spinale è danneggiato. Abbiamo alleviato la compressione durante l'intervento d'urgenza quando siete stati portati qui, per dirla in parole povere, abbiamo alleggerito la pressione sul cervello, ma stiamo aspettando che il gonfiore si riduca. Per valutare gli effetti del trauma. Capisce cosa intendo? Non proprio. Mi sono reso conto che non riesco a girarmi. Non sento le gambe o la parte inferiore del corpo. Ma non sono paralizzato, vero? È una cosa post-operatoria. Ancora una volta, è difficile valutare la situazione a questo punto. Dopo un infortunio di questo livello, c'è un periodo di shock. Può durare fino a un mese e mezzo. Quindi il quadro sarà un po' più chiaro quando il gonfiore sarà diminuito. Ma capiremo l'entità del danno al midollo spinale più tardi, tra quattro o sei settimane. Per ora è difficile stabilire i tempi e non posso fare previsioni. Osserveremo. Per ora resta con noi. Per un mese e mezzo. Nicolas, non è possibile prendersi cura di te a casa. Vivo con la mia fidanzata. Lei mi aiuterà. Non ti rendi conto che non si tratta solo di nutrirti e di igiene. Devi essere lavato, girato completamente, sensibilizzato. È un lavoro a tempo pieno. Avete qualcuno che può stare con voi tutto il giorno? Certo, potreste assumere una badante 24 ore su 24. Ma avete questa possibilità? Ma avete questa possibilità? Non lo so, ho dei soldi. Dovevamo andare in vacanza, ma abbiamo deciso di spenderli per il matrimonio. Nicolas, badante. È costoso. È come pagare uno stipendio mensile a una persona media. E serve una persona con buone qualifiche. Non si chiede al vicino di casa di aiutarci. In ospedale, invece, l'assistenza di un esperto è gratuita. Ci si sdraia, non si corre a casa. Qui abbiamo tutto sotto controllo. Aspetta, come faccio ad andare in bagno? È quello che ha detto il dottore. Inoltre, in questo momento non riesci a controllare l'urina e le fei. Nicolas sta indossando un pannolino. Nicolas guardò il dottore in silenzio e le lacrime cominciarono ad accumularsi nei suoi occhi. Piangi, non trattenerti. Oliver lo guardò con comprensione. Sì, è una brutta notizia. Tieni duro. Si strinse la mano appena sopra il gomito e rimase con noi per il momento. Anche in questo caso, faremo del nostro meglio per rimetterti in piedi. C'è speranza che tu possa camminare. La cosa principale è credere in se stessi e non essere pigri nel seguire tutte le raccomandazioni, fare esercizi. Lotteremo ancora per lei, ma ora si riposi. Grazie. Questo è tutto ciò che Nicolas è riuscito a spremere. Grazie per l'operazione, ma vedremo. La voce gli tremava, abbassò gli occhi. Il medico gli strinse di nuovo la mano, la accarezzò in modo rassicurante e se ne andò. Nicolas telefonò a Mia, chiedendole di portargli le cose da casa la sera e di venire da lui per parlare. In seguito, la sua giornata trascorse cercando di rendersi conto dell'entità del disastro che si era verificato. Non c'era nulla che potesse distrarlo dai suoi cupi pensieri. Il reparto era per lo più silenzioso. Il suo vicino faticava a smaltire l'anestesia, dormiva molto, a volte vomitava, e le infermiere correvano in giro a pulire. Ma tutto si calmò rapidamente e Nicolas fu lasciato di nuovo solo con i suoi pensieri. Cosa gli riservava il futuro? E il lavoro adesso? E il matrimonio? Tutti i piani andavano in fumo. Dopo la cena, che consisteva nello stesso intruglio di farina d'avena, arrivò Mia. La conversazione tra i due giovani fu breve e piuttosto parca di emozioni. Nicolas illustrò tutto ciò che aveva detto il medico. Mia sembrò prendere tutto con calma. Sospirò Mol, è un peccato, certo, che i piani siano stati sconvolti, ma la salute è più importante. Naturalmente, Nicolas con tutte le vacanze e il matrimonio si occuperà più tardi, come dimesso e recuperato. Stiamo insieme da un anno senza anagrafe. «E vivremo senza documenti!» La ragazza sorrise. «Guarisci, guarisci!» «E poi vedremo!» Queste parole tranquillizzarono leggermente Nicolas e gli diedero la forza di lottare per la guarigione. «Camminerò», pensò con decisione il ragazzo e pianificò di fare ogni sforzo per farlo. Passarono le settimane. La vita in ospedale continuava a svolgersi in modo misurato. La giornata si svolgeva secondo il programma Aumento della temperatura, flebo, farmaci, procedure igieniche, colazione, visite mediche, esercizi per le braccia e la parte superiore del tronco, pranzo, sonno, cena, ore di visite dei parenti. Pillole e flebo e di nuovo a dormire. Questa routine stava diventando stancante. Tuttavia, Nicolas era ancora un architetto, ma presso il Dipartimento della Difesa, quindi si considerava un po' l'un militare, per cui si atteneva rigorosamente a tutte le istruzioni, seguiva tutte le indicazioni, prendeva pillole a ore e non si sottraeva agli esercizi. Mia lo visitava di tanto in tanto. Non spesso, un paio di volte alla settimana. La ragazza si lamentava del fatto che le ci voleva molto tempo per arrivare alla clinica dopo il lavoro e che non era sulla strada per il loro appartamento in affitto. Nicolas annuì con comprensione, ma rimase un po' al sorpreso, dopo tutto, fare musica con i bambini non è il lavoro più faticoso. E le lezioni all'asilo erano nella prima metà della giornata. Sembrava che ci fosse tempo per andare all'ospedale. Ma non ho fatto pressione sulla bambina, ho capito che era difficile anche per lei. Tutti i piani sono stati rimandati per un periodo indefinito. Doveva pagare anche l'appartamento, perché Nicolas era in malattia, e i pagamenti erano minimi, il 60%, perché lui aveva meno di 5 anni di servizio. Tre settimane dopo ricevette un'altra visita. Era la bambina May, che aveva salvato. Grazie, zio Nicolas, per avermi preso, disse solennemente la bambina di 8 anni. Sono l'unica che ti ha rotto il braccio per me. Sai, un braccio è la cosa meno malvagia che potesse accadere, disse Andrew, il padre della bambina, entusiasta. Sono un autista anch'io, ho guardato la scena dell'incidente, lei stava volando proprio nel viale sotto le auto. E poi questo autobus si è fermato davanti a lei. Non è assolutamente permesso guidare lì. Si è scoperto che avevano portato al circo gli scolari del villaggio in vacanza e avevano deciso di buttarli nel parco prima, in modo che si arrabbiassero e si sedessero più tranquilli durante lo spettacolo. L'autista dello stesso villaggio non conosce le strade. Così ha guidato come per avvicinarsi al parco e ha visto che tutti parcheggiano lì, nonostante i cartelli. Così ha deciso di infrangere lui stesso la legge. Bravo, si è scusato. Era molto contento di non aver causato altri problemi. L'uomo vacillò sotto lo sguardo di Nicholas. Insomma, almeno sono tutti vivi. E ti siamo molto grati, Olivia, la mamma della ragazza. Come abbiamo fatto a non vedere quello scooter? È una strada così tranquilla. Venivamo dal parco, stavamo già camminando, rilassati, e poi una frazione di secondo dopo me è scesa dalla collina. Non abbiamo avuto il tempo di reagire. Siete stati fortunati ad essere più vicini. La donna ha esitato. È una fortuna per noi, ma per voi, mi dispiace, esitò. Va tutto bene, disse Nicholas. Credo di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto. Non avrei dovuto essere lì. e le raccontò che il suo capo gli aveva chiesto un favore perché si trovava nel parco durante l'orario di lavoro. Grazie. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine, disse Andrew. Può contare su di noi per tutto. Ti aiuteremo con le cure, la riabilitazione, tutto ciò di cui hai bisogno. Non dica di no. Possiamo permettercelo. Inoltre, la vita di nostra figlia è preziosa. Mi chiami non appena saprà qualcosa sulle ulteriori procedure per il recupero. Organizzerò tutto. Nicholas fu dimesso solo dopo quasi due mesi. Il ricovero è stato ritardato perché la ferita era troppo grave. Il trattamento ambulatoriale era lungo e il programma di riabilitazione complesso. Finora il ragazzo è stato dimesso a casa per qualche giorno. Andrew, il padre della ragazza che ha salvato, lo ha accompagnato a casa con la sua auto. Nicholas era su una sedia a rotelle. Si era abituato all'ospedale. Aveva imparato a trasferirsi sul letto e sugli attrezzi gini. Ora Andrew lo aiutava a salire in macchina. Nicholas guidò con orgoglio fino a casa sua. Ora apprezzava la rampa che si trovava sui gradini d'ingresso. Prima non l'aveva nemmeno notata. Pensava che questo dispositivo fosse solo per le mamme con le carrozzine e i pensionati con i loro carrelli sempre pieni. Anche per una persona in sedia a rotelle la rampa si è rivelata comoda, senza grandi pendenze. Inoltre, l'ascensore della loro casa si trovava al piano terra, senza scalini per raggiungerlo, come a volte accade. Quindi la strada di casa è stata abbastanza facile per un giovane invalido. Mia, a proposito, evitava accuratamente la parola invalido e in generale faceva finta che non fosse cambiato nulla. Ora era in cucina e si occupava delle faccende domestiche. Aveva cucinato molto cibo. Persino le finestre sudavano per il vapore e il calore. Nicholas fu accolto dagli aromi del pane appena sfornato e dell'alloro, gli odori familiari di una casa accogliente con una vita tranquilla e ben ordinata. Andrew ricordò ancora una volta a Nicholas che era pronto ad aiutarlo in qualsiasi modo. E lo salutò, vai, riposati. Si davano già amichevolmente del tu. E alla fine della settimana andremo al centro di riabilitazione. Tu, soprattutto, decidi quale. Andrew me lo ha ricordato. Ce ne sono molti buoni nel quartiere, ma guarda le procedure e vedi se hanno tutto quello che ti serve. Andiamo, credo, domenica, in modo che tu abbia la sera per sistemarti e lunedì inizieremo il corso di procedure. Dobre. Grazie, saluta me e Olivia. Nicholas si congedò con un sorriso. Era abituato alle condizioni della persona di cui si prendeva cura. All'inizio era difficile accettare l'aiuto, ma non poteva sopravvivere senza. Nicholas si avvicinò al tavolo in sala, dove Mia stava portando i pasti pronti uno per uno, e i ragazzi si sedettero a mangiare. Sei una brava persona, disse il ragazzo in modo rilassato. Grazie per il cibo delizioso e per l'attenzione. Tutto si risolverà. Spero di poter chiamare al lavoro domani. Non so quando potrò uscire, ma dovrò farmi sentire. Nicholas, dobbiamo parlare, disse la ragazza, improvvisamente molto seria. Probabilmente non sarò in grado di affrontare tutto questo. Cosa vuoi dire? Nicholas, non fraintendermi. Un paio di mesi fa avevamo una vita completamente diversa. Stavamo organizzando un matrimonio. Ma ho capito, tu eri predisposto per una vita di gioie e dolori, ma non con lo stesso dolore con cui mio marito sarà disabile. Alla fine, pronunciata la parola, la ragazza la sputò letteralmente con esasperazione. Interessante la gradazione del livello di dolore che avete. Guardandomi a pensieroso, Nicholas disse. Beh, interessante, non è interessante. Non sono pronto a vivere con un invalido. Lo dirò con durezza, ma onestamente non credo che dovremmo continuare a vivere insieme e a fare progetti. Si vedeva che Mia era molto determinata. Hai intenzione di fare subito le valigie? Chiese Nicholas con una strana calma. Perché dovrei fare le valigie? Sto pagando l'appartamento. Vivrò qui. I copecchi del tuo congedo per malattia bastano a malapena per le medicine e sei in un sanatorio, non sai per quanti mesi, per la riabilitazione. Quindi resterò qui. Perché devo fare degli spostamenti inutili? Mia scrollò le spalle. Sì, beh, sono io quella che si sta muovendo in questo momento. Dopotutto, se inizio a muovere il mio corpo, è la felicità. Nicolas Sobignot. Ok, capisco il tuo punto di vista. Immaginavo, naturalmente, che le difficoltà nella nostra vita personale possono essere, che tutto da riconsiderare è necessario per adattarsi di nuovo in realtà alla nuova vita. Ma non mi aspettavo questo da te. Rischioso, sai, hai virato di 180 gradi dall'amore al rifiuto. Fermiamo questa conversazione, Mia lo interruppe. Pensa quello che vuoi di me, ma la mia decisione è definitiva. Non ho ancora 30 anni e non ho intenzione di seppellirmi. Puoi vivere qui finché non te ne vai, ma dopo il sanatorio puoi andare dove vuoi. Spero di farlo, letteralmente, lo interruppe Nicolas, faccia il mio letto qui sul divano. Se sei così gentile. In camera da letto riposa da solo, senza di me e da me. Dopo una decina di minuti si sdraiò, girò la faccia verso il muro e finse di dormire. Quando Mia spense la luce uscì, Nicolas sentì le lacrime scorrerli sul viso. I problemi non vengono da soli. Il giorno dopo Nicolas scoprì che non solo la sua fidanzata, ma anche il suo lavoro era sparito. Il suo capo Jack borbottava qualcosa sull'ottimizzazione del personale, sul fatto che l'ufficio sta tagliando i costi. Ma Nicolas capì tutto alla perfezione. Va bene, Jack, è troppo costoso mantenere un invalido. Non so quando tornerò al lavoro. E nessuno vuole pagare le assenze per malattia. Dovrai redigere la tua lettera di dimissioni. Uno di questi giorni ritirerò la mia tessera del lavoro. E senza ascoltare alcuna scusa, Nicolas premette off sul suo telefono. Fu Jack, tuttavia, a preoccuparsi di mettere Nicolas in un buon sanatorio. Tramite i suoi canali si accordò con il centro medico del Ministero della Difesa a Marfino, in modo che il dipendente già licenziato venisse preso anche se pagato, ma con particolare attenzione alle erbe, alle sanguisughe. E poi ti rimetterai in piedi. Jack Rice sbonariamente, dando a Nicolas la buona notizia. Anche Nicolas Rice ma non sapeva cosa fare. Un buon sanatorio era fantastico, ma avrebbe richiesto tutto il tempo necessario per le cure. E quando occuparsi della sistemazione della vita successiva? Dopotutto, dopo la riabilitazione, non aveva un posto dove andare, la sua fidanzata si rifiutava di dargli una casa e stringere i suoi genitori nella loro minuscola camera da letto da 27enne adulto era una vergogna. Alla fine decise che, pur non essendolo Sellaoara, ci avrebbe pensato domani. Per essere più precisi, in un mese intero che sarebbe dovuto durare un mese di riabilitazione in un sanatorio, il ragazzo puntò seriamente a rimettersi in piedi, caricandosi fino in fondo. Praticamente non aveva un solo minuto libero e quindi non aveva tempo per il pessimismo. Ha lavorato duramente, ha provato tutti i metodi e le procedure, è passato dai bagni di fango a quelli ordinari, dove è stata eseguita la trazione spinale subacquea, i suoi muscoli sono stati elettrificati, i suoi nervi sono stati stimolati con il laser e le sue articolazioni con i magneti. Il suo corpo è stato incollato con gessi speciali. In fisioterapia, è stato piegato e raddrizzato fino a straparlo. E sì, ha conosciuto anche le sanguisughe. In questo contesto, percepì il massaggio come manna dal cielo. Era la cosa più piacevole di tutti gli appuntamenti. Ed era fatto da una bella ragazza, Kate, dai capelli grigi, gli occhi azzurri e la pelle paffuta. Così Nicholas a volte aveva anche dei normali pensieri maschili, secondo i quali sarebbe stato meglio se non fosse stata lei ad essere sua e se l'avesse sentita, una massaggiatrice così sensuale. Ma scacciava questi desideri, credendo che nessuno avesse bisogno di un'invalida. Nelle ore serali uscì per prendere una boccata d'aria fresca e per ammirare il paesaggio. I luoghi qui erano molto pittoreschi. Come luogo di cura questo posto era conosciuto fin dagli anni venti del ventesimo secolo. Il sanatorio sorgeva sul sito di un nobile maniero. Le torrette a punta, gli stemmi merlati, le finestre a bifora dell'ex casa del bar lo facevano assomigliare a un castello medievale. Sono stati conservati anche alcuni altri edifici di quell'epoca, che ora sono diventati locali ausiliari dell'ospedale. Il tutto era circondato da un antico parco con laghetti e fontane. Ora era dicembre e tutto questo era coperto dalla neve, che conferiva al paesaggio bellezza e mistero. Nicolas si avvicinò a un elegante pergolato, ornato da una statua di Apollo del Belvedere. Era stato costruito nel diciottesimo secolo. Una voce femminile allegra risuonò nelle vicinanze. Nicolas si girò rapidamente. Papà May gli aveva pagato la migliore e costosissima sedia a rotelle, che gli permetteva di manovrare rapidamente. La meraviglia dell'ingegneria tedesca poteva guidare anche su terreni accidentati come una jeep, accelerando fino a 15 chilometri all'ora. Sedili, poggiapiedi e braccioli erano regolati elettronicamente, controllati automaticamente da un joystick. C'era persino una porta per ricaricare un telefono cellulare. Tutto questo trasformava il progetto quasi in una vera e propria mini-auto con tutti i comfort. Dietro a Nicolas c'era una donna di circa 60 anni, con i capelli scuri e gli occhiali scuri, anch'essa su una sedia a rotelle. Lily, si è presentata. Non è la prima volta che vengo qui. È già un ottimo sanatorio, ci sono bravi specialisti e il posto è meraviglioso, con la sua storia, ha continuato. E all'improvviso disse, andiamo! Nicolas la seguì. Pochi minuti dopo si fermarono vicino a un grande ponte in stile gotico, fatto di mattoni rossi e con imponenti colonne bianche. Guardandolo, si aveva la sensazione di trovarsi nel castello di un cavaliere medievale, non in un sanatorio vicino a Mosca. E qui hanno filmato una donna che canta, disse una nuova conoscenza con le note di una guida turistica. Ma avete sentito parlare di Alla Pugacheva, vero? Spero che, anche se la vostra generazione è giovane, sia interessata ad altre canzoni ora. Certo che ne ho sentito parlare, sorrise Nicolas. Ho sentito molte cose. Ma credo che la sua vita privata sia un affare strettamente personale, scusate la tautologia. Ma come cantante non posso perdonarle di aver rovinato la sua voce. Fumando, a quanto pare. Che suono aveva prima? Le sue canzoni, le sue parole e la sua musica mi hanno spalancato l'anima. Su questo ponte ha eseguito una di quelle composizioni struggenti chiamate Sonetto numero 90. È il testo di Shakespeare tradotto da Marciak. E la musica è stata scritta dalla stessa Pugacheva. Immaginate la potenza di questa combinazione di geni. Gente di talento, tempi di talento, sospirò la donna. Non sapevo una cosa del genere, disse Nicolas. Ho sentito parlare del film, naturalmente, ma non ricordo la canzone. Se ne ha l'occasione, la ascolti. Ci sono alcuni versi molto belli. Una richiesta di non lasciare un uomo in difficoltà e di non diventare l'ultima goccia di dolore per lui, disse Lily. Guardando la reazione di Nicolas. È rilevante per te? Suppongo di sì, disse Nicolas. La mia fidanzata mi ha appena lasciato. Non le piacevano le prognosi sulla mia salute e sulle nostre prospettive insieme. Beh, che sia l'ultima goccia di dolore per lei. Credo che ne abbia avuto abbastanza. Va bene, andiamo avanti. Ti faccio fare il giro. Cioè, un giro. Lily rise bonariamente. Quindi Nicolas non si offese per la presa in giro del loro stato d'animo generale. Passarono davanti alle parti abbandonate del maniero, agli alloggi delle carrozze che si stavano lentamente sgretolando, al cortile dei cavalli della casa dell'intendente. Le rovine erano abitate da cani randaggi. La direzione del sanatorio, ovviamente, era contraria al randagismo, ma i villeggianti li nutrivano tranquillamente. Pertanto, i cani si nascondevano, ma non lasciavano il territorio. Ora una coppia di quattro zampe è uscita di corsa, scodinzolando, quando ha visto Lily. Lei tirò fuori una borsa dalla tasca della giacca, estrasse una cotoletta, la spezzò in due pezzi e la lanciò loro, scherzando. Beh, sono tornata a nuoto, oggi deve venire mio marito. Non ci riesce spesso, ma ci prova una volta alla settimana. E abbiamo la tradizione che non si presenti qui senza fiori. Sono una donna. Beh, ne ha portati un bel pol, dovrei sciacquare il vaso prima. Avremo ancora tempo per parlare con te. Sono qui per un mese, arrivederci. L'allegro pensionato salutò con un cenno del capo e si allontanò nel crepuscolo lungo il sentiero calpestato dai cumuli di neve. La comunicazione con Lily nelle settimane successive divenne per Nicholas la migliore ispirazione e psicoanalisi. Al sanatorio partecipò alle sedute con un terapeuta. Ma Lily non usava esempi astratti, bensì la sua concretezza per ispirarlo e insegnargli ad amare di nuovo la vita. Era stata su una sedia a rotelle per circa due decenni. Anche lei è uscita da un incidente solo tornando a casa in auto, stanca dopo il lavoro e ha sbandato nella corsia opposta sotto un camion. Anche il marito l'ha lasciata quasi subito. Aiutata dalla figlia, che all'epoca aveva 14 anni. Lo superarono. Quando Lily si riprese, decise di occuparsi della sua vita privata. Aveva bisogno di un aiuto domestico, perché sua figlia stava crescendo e non erano lontani i tempi in cui avrebbe voluto creare una famiglia propria e solo per mettere una croce su se stessa come donna, Lily non voleva. All'epoca aveva solo poco più di 40 anni. Sai, Lily disse a Nicolas, non sono nemmeno offesa dal mio ex marito. Mi aveva preso per una moglie sana e invece ero malata e non corrispondevo alle aspettative. Ma quando ti vedono su una sedia a rotelle, capiscono che sei una persona con certi limiti. E se lei è pronta a iniziare una relazione con te, allora con piena consapevolezza della situazione e della responsabilità. Sapete come ho conosciuto mio marito? Ha un concetto di beneficenza per i disabili. Alex ha portato lì sua sorella, che è su una sedia a rotelle e canta benissimo. Proprio come la Pugacheva quando era giovane. Grazie al passaparola, siamo diventati amici. Ha capito da sua sorella che non bisogna avere paura delle difficoltà. Sì, si presentano, ma soprattutto quando si viaggia. Per il resto, siamo persone normali con una vita standard, media. Quindi non si scoraggi. Troverete una ragazza che vi accetterà così come siete. Naturalmente, ci sono delle sfumature. Il recettore dell'urina non è esattamente un ornamento per un uomo, ma si può calcolare tutto e rimuoverlo quando è necessario, sapete cosa intendo. Da un altro tipo di fisiologia, fidati, puoi capirlo se vuoi. Lili ridacchiò in tutti i sensi. Non ci ho ancora pensato. Nicolas arrossì. Ci penserai quando starai meglio. È normale e naturale a qualsiasi età. E tu, giovanotto, sei una manna dal cielo. E avere figli? È la stessa situazione qui. Se i bambini ti vedono in carrozzina fin dall'inizio, per loro è la norma. Ma se eri in salute e all'improvviso sei in difesa, per loro è uno shock. Mia figlia era timida anche quando venivo a scuola a trovarla. Sì, c'è molta attenzione. Tutti abbandonano tutto, si precipitano ad aiutarmi, anche se non lo chiedo. Mi aprono la porta, mi accompagnano, mi aiutano ad andare in classe. Ero in grado di farlo da solo, ma questo non è impedito alle persone di preoccuparsi. All'inizio avevano gli occhi pieni di pietà. Quasi piangevano, ma poi si sono resi conto che ero attivo quanto loro. Ero con loro ovunque, in gita, a teatro e nei boschi. Partecipavo a tutte le attività del PTA. Così tutti si sono abituati ad avere intorno una persona in carrozzina. Hanno smesso di notarla. Per loro è diventato un luogo comune. E per me la regola non è stare a casa a piangere sul mio destino, ma vivere attivamente. Sì, come si dice di noi persone con disabilità, e tu sei una persona con possibilità illimitate, disse Nicholas. E sarai così, vedrai. Lily lo incoraggiò. Nicholas non aveva ancora rivelato a Lily il suo piccolo segreto, l'infermiera Kate gli piaceva molto. Era ancora un po' timido riguardo ai suoi sentimenti. Doveva pensare a curarsi, a rimettersi in piedi. Non ad avere un'avventura, ma comunque. E Kate sembrava farlo risaltare un po' rispetto agli altri pazienti. Durante il massaggio non taceva, come faceva con gli altri, ma parlava molto, raccontava di sé e si interessava ai progetti di Nicholas. Un giorno toccò un argomento importante per Nicholas. Sai, non era il tuo destino, mia, disse pensierosa la ragazza, massaggiando la coscia del ragazzo. Vedi, io ascolto molte storie. È quando a una persona capita un trauma del genere. Kate scelse con cura le parole. Ovviamente non voleva ferire i sentimenti di Nicholas. È allora che Dio manda una prova come questa. di solito sono gli uomini ad abbandonare le loro compagne malate. Non importa se hanno una relazione o sono sposati da molto tempo. E le donne, in queste situazioni, lasciano i loro partner molto raramente. Probabilmente perché lo percepiscono come un parente in più e non sono come un oggetto per i piaceri, per soddisfare i loro desideri. Senza offesa per lei. Forse suona duro, ma è così. E vedete, la donna ha deciso così rapidamente e facilmente che non è più sulla strada con voi. Quindi non ha provato alcun amore. Ha seguito la corrente per sposarsi come tutti gli altri, per avere figli come tutti gli altri, in modo stereotipato, senza pensare che la vita con un uomo lega per sempre, il che significa che tutte le difficoltà dovrebbero essere divise a metà. Anche a me sembrava strano, ammise Nicholas. È stato troppo veloce. Sono appena uscito dall'ospedale e sono tornato a casa. Volevo conforto, pace e un po' al della mia vecchia vita. Ero così scioccato da lei. E non ha nemmeno provato a vivere con me per un po', forse non sarebbe stato un problema così grande. Come dice Lily, sorrise, ricordando la sua nuova conoscenza. Conosci Lily, vero? È una donna stimolante, ottimista. Certo che la conosco. Ha una vita difficile. Non so come faccia a trovare la forza di vivere. Sì, ha parlato del trauma e di come il marito se ne sia andato, ha detto Kate, ma non è tutto. Non le ha detto che ha combattuto in Afghanistan? Afghanistan? Ha tipo 60 anni. Cosa? È andata la d'adolescente? O sto confondendo le date? No, non è vero. Aveva vent'anni all'epoca della guerra, ma non combatteva per l'Unione Sovietica. Qui Nicholas si girò addirittura un po' le in virtù delle capacità dell'uomo sdraiato a pancia in giù e guardò silenziosamente il volto di Kate con occhi grandi. Non era durante quella prima guerra in Afghanistan e nel ventunesimo anno di età aveva allora 40 anni. Non era ancora su una sedia a rotelle. Camminava con le sue gambe. È stato allora che sono avvenuti gli attentati dell'11 settembre, ricordate? Gli Stati Uniti lanciarono un'operazione di rappresaglia in Afghanistan ritenendo che gli organizzatori degli attentati si nascondessero lì. La Russia non aveva nulla a che fare con questa missione militare americana. Ma in realtà, come CIA ha detto Lily, il GRU lavorava con la CIA. Quindi tra i nostri agenti in Afghanistan c'era anche Kate. Cos'è? Una spia? Un agente dei servizi segreti? Sì, Kate ha riso. Non si può dire. Sì, una donna anziana, simpatica e cordiale, quasi una nonna. È anche un cecchino. Oh, ma dai! Sì, era in un'operazione in montagna. Ci sono molte grotte. E in una di queste, secondo l'intelligence, si nascondeva Bin Laden. La mente di Al-Qaeda, che ha organizzato gli attacchi negli Stati Uniti. È un nome strano per questa zona montuosa dell'Afghanistan. Mi ricordo di Torah Bora, solo che chi c'era non rideva. Per cinque giorni hanno fatto uscire i terroristi dalla grotta. Verso la fine dell'operazione, Lily e alcuni altri saltarono grazie a Dio, le sue braccia e le sue gambe non erano saltate in aria come quelle degli altri. Ma le sue ferite erano gravi. Fu evacuata a Mosca, in un ospedale militare, e poi qui, da noi. Alcuni anziani si ricordano di lei da quel periodo. E poi ha iniziato a venire qui spesso, dopo l'incidente stradale che l'ha resa invalida. Come tutti qui la conoscono ora. Ma allora era stata curata qui e aveva lasciato il servizio. Ha iniziato un'attività commerciale organizzando tour. La gente stava scoprendo la Turchia solo allora, con le vacanze all inclusive che si stavano diffondendo in massa. Quindi Lily non era povera, ma poi le capitò l'incidente e la sua vita andò di nuovo a rotoli. E bene, ha ricominciato da capo. Buon per lei. È una persona resistente. Aspettate. Non ha passato solo questo. Sua figlia è morta dopo essere rimasta invalida. Sua figlia era l'unica adolescente che le era rimasta accanto. E aiutava la madre come poteva per tutto il tempo della casa. Non aveva tempo di fare passeggiate. Ecco com' è il destino. Andò alla festa di compleanno di un'amica. Tornò al buio con le cuffie in testa attraversando un passaggio a livello. E così è stato. Non ha sentito né visto il treno. Immagino fosse stanca quindi non si è nemmeno accorta della luce rossa all'incrocio. Oh mio Dio! Povera Lily! Non dirmi che ti ho detto tutto questo. Non si apre con tutti. Non le piace piangere. Si è confidata con me. Dio sa cosa c'è nel suo cuore. Perché sei così timorata di Dio? Sei una credente? Sì, ha detto Kate con tranquilla dignità. So che è fuori moda, ma credo che sia Dio a comandare, non l'uomo. Sì, le sue vie sono misteriose, ma tutto è per il nostro bene e l'uomo può fare ciò che manda. Ok, non ho intenzione di discutere con te. Grazie per il massaggio. Nicolas chiuse la conversazione. Il giorno dopo riflette su questa conversazione sul destino delle persone, sulla fede arcaica di Kate. Non giudicare, per non essere giudicato. Ricordò e cercò di spostare l'attenzione. Passò davanti a un pittoresco rudere dove si aggiravano cani randagi. Uno stava rosichiando qualcosa da un cespuglio, apparentemente per organizzare un bastone da gioco. Un paio di altri cani correvano intorno, attaccandosi giocosamente l'un l'altro, mordendosi leggermente le zampe e le orecchie. È la felicità di un cane correre e giocare spensieratamente, pensò Nicolas. Le zampe stanno già lavorando bene. E ora rinforzerò la loro forza con altro cibo. Cominciò già a tirare fuori un sacchetto con pezzi di cotolette e pane, ossa, raccolti dopo la cena e la colazione. Improvvisamente i cani si irrigidirono, guardarono da un'altra parte e, infilando la coda, scapparono via. Nicolas si girò gofamente per vedere cosa li avesse spaventati così tanto e vide un furgone per il controllo degli animali randagi. due uomini barcollanti, evidentemente ubriachi, si stavano allontanando da esso. Avevano dei legacci per animali con dei cappi sui loro bastoni. Ragazzi, non toccate i cani! Nicolas si girò verso di loro. Non danno fastidio a nessuno. I vostri padroni sì. Per questo ci hanno chiamato. Stiamo facendo il nostro lavoro, disse meccanicamente uno degli uomini. Evidentemente non era la prima volta che sentiva delle tirate in difesa di creature in difese. I cacciatori passarono semplicemente accanto a Nicolas, come se non fosse nulla, e scomparvero tra i cespugli. Se fossi normale, pensò a Nicolas con amarezza, sarei un patetico invalido, incapace di proteggere qualcuno. Ma anche in quel caso era deciso a raggiungere il furgone il più velocemente possibile, come la sua miracolosa sedia a rotelle gli avrebbe permesso. Si diresse verso il retro e cercò di aprire la porta, dietro la quale c'era qualcuno che piagnucolava silenziosamente, imbronciato e senza speranza. C'era un chiavistello di metallo in basso. Lo spinse subito via, ma ce n'era un altro al centro della porta. Nicolas alzò il sedile al massimo, ma non riuscì a raggiungerlo. I secondi preziosi stavano trascorrendo, i trapper potevano essere sul punto di tornare. Nicolas si guardò intorno alla ricerca di un bastone. Ma no, il sanatorio era stato ripulito fino alla sterilità. Lo stivale! All'improvviso Nicolas si rese conto che la sua carrozzina miracolosa era dotata di uno stivale rimovibile. La sua carrozzina miracolosa aveva uno stivale rimovibile sul retro. Nicolas gettò il braccio dietro la schiena, rimosse rapidamente la struttura e con la sua estremità raggiunse il chiavistello. Un paio di movimenti e si aprì. Guardando all'interno, Nicolas fu colto di sorpresa. C'era un solo cane sdraiato su un fianco sul pavimento di ferro, con respirava a fatica e mugolava sommessamente. I suoni erano ancora più simili a gemiti umani. Il cane era sdraiato sul fianco sinistro e la zampa anteriore destra era in alto e stranamente estesa perpendicolarmente al corpo. La zampa era molto gonfia, con lacerazioni e sporca, incancrenita e di cattivo odore. Anche il cane stesso non era molto pulito. Sulla sua pelle grigia, che mascherava un po' alla sporcizia, si potevano ancora vedere zolle secche di terra e alcune striature oleose. L'animale aveva un aspetto strano. Era molto grande, più o meno come un cane da pastore, ma più snello e con zampe lunghe. Aveva una fronte ampia e un muso allungato con mascelle affusolate e potenti. Dalla bocca aperta si intravedevano grandi Il cane assomigliava più a un lupo, ma un animale selvatico non sarebbe stato catturato in una trappola, pensò Nicholas. Un lupo sarebbe scappato o sarebbe stato abbattuto. Perché catturarlo e addormentarlo? Le sue riflessioni furono interrotte dal ritorno degli uomini alla macchina. Stavano trascinando un piccolo cane rosso dai senza tetto sul loro bastone con La poveretta, ovviamente, non poteva scappare come gli altri a causa della sua età. Era molto vecchia e quando Nicholas portava il cibo ai cani, lei aspettava sempre modestamente in disparte mentre i compagni di cucciolata si sedevano. Avendo apparentemente capito che non era più in grado di competere per il cibo, Nicholas era solito darle da mangiare separatamente. All'inizio lo distribuiva al branco, poi chiamava a sé la vecchia e le dava il cibo direttamente dalle sue mani. Ora la cagnolina non opponeva alcuna resistenza ai suoi aguzzini, con la sottomissione negli occhi, zoppicando, cercando di tenere il passo con loro con le sue vecchie zampe. Per non essere trascinata a terra. Ehi, cosa state facendo? Uno degli uomini notò fuori di qui, disse sgarbatamente, spingendo la sua vittima a quattro zampe nel retro del furgone. Quest'ultima guardò con un po' di apprensione il cane sdraiato. A quanto pare, anche lei pensava di essere un lupo. Ma la poveretta se ne stava ancora sdraiata senza reagire a nessuno. Ragazzi, con calma, aspettate un po' non imprecate, come poteva, voleva solo picchiarli. Se era possibile, gli dispiaceva per i cani, la cui unica colpa era quella di essere venuti al mondo senza l'aiuto di nessuno e di essere attratti dalle persone, cercando solo di sopravvivere. Non abbiamo tempo per parlare con voi. È tutto il giorno che andiamo da un punto all' disse il secondo uomo, con un'aria meno comprensiva e più per diverse ore, quindi non abbiamo il tempo di girare tutto il territorio. Quindi chi è stato preso, è stato preso. Guardò la vecchia che si rattrappiva nell'angolo e poi il cagnone senza vita. Quanto impegno hai messo in quel mostro? Ha malapena imballato. Mezzo morto, sembra un personaggio. Ha reagito finché non le abbiamo dato un colpo in testa. Dove l'avete trovata così? Sembra un animale selvatico. Nicholas cercò di portare avanti la conversazione. L'uomo silenzioso accese una sigaretta e si sedette sulla panchina accanto a Costia. Oggi ci hanno chiamato per un cottage. Ce n'è uno non lontano. Non c'era solo un cottage, c'era un enorme villa e un enorme territorio, come una tenuta baronale ai vecchi tempi. Sì, è più o meno la dimensione della vostra tenuta qui. Beh, quel cane ha l'abitudine di andare lì intorno. C'è un cane da pastore maschio e lei è andata da lui. Tutte le cagne sono soggette all'amore. A quanto pare, rideva la sua battuta, anche a quelle che facevano paura. Beh, avevano un rapporto tutto loro con il cane. proprietari del cottage non hanno fatto domande. Ma poi, quando hanno preso le sue persone sul territorio, hanno cominciato a scagliarsi contro di loro, abbagliando, beh, ovviamente in modo selvaggio. E i proprietari hanno bambini piccoli. Beh, abbiamo tollerato, tollerato, abbiamo pensato che si sarebbe innamorata del suo spasimante e sarebbe scomparsa. No, è ancora in giro. Alla fine hanno messo una trappola. Beh, la stronza è stata catturata. E comunque non lo sopportava, si contorceva, ringhiava. Gli operai locali avevano paura di avvicinarsi. Pensavano che sarebbe morta da sola. No. Passarono tre giorni e lei era ancora viva, continuava a battere i denti. A quel punto ci chiamarono. Era quasi esausta. Quindi si trattava solo di un pol di lavoro, un cappio e un furgone. E ci pagavano bene, senza offese oltre allo stipendio. Così quel bastardo non darà più fastidio a nessuno. Brinderemo al riposo della sua anima stasera. Sorrise. Vuoi fare altri soldi per cogliere l'attimo di Nicolas? Vendila a me! Che ti prende, amico? Perché vuoi un cane come quello? Mi dispiace, ma sei un invalido. Se lei ce la farà, non puoi gestire un cane come quello. Fu allora che l'uomo cupo parlò. Morirà? Dove andrà? Ne ha abbastanza stronza. Frankenstein un corno! Sputò. Non credo sia un cane, è un mix di lupi. I militari li hanno messi insieme, volevano ottenere le migliori qualità da entrambe le parti. Non ma ho sicuramente visto cani del genere da queste parti. C'è un'unità militare qui, forse è da lì che è scappata. Ce ne sono una decina che vivono lì. I soldati me li hanno mostrati e mi hanno parlato di questa strana razza. E noi siamo venuti a prendere i gatti che questi Frankenstein non erano riusciti a sbranare. Si può filippica, non capendo come una morte potesse essere migliore di un'altra causata da una puntura o dalla bocca di un cane. È comunque la morte dei ragazzi. Ma ne hai bisogno? Chiese il ragazzo, decidendo di provare a salvare lo sfortunato animale. Mi permetta di darle dei soldi, sono affari miei. Cosa ne farò poi? Saranno sufficienti 5.000 dollari? 5.000 per un bastardino, sbuffò l'uomo arrabbiato. Dipende da te, fratello. Dammi i soldi e prendi la bellezza grigia. Aspetta 5 minuti, prendo i soldi. Non li ho portati con me. Stavo facendo una passeggiata. Va bene, disse l'uomo. Sbrighiamoci a tornare a casa, dobbiamo andare. Salì sul taxi. Nicholas chiamò Kate. Kate, sei ancora al lavoro? Non chiedere nulla, vieni subito al cancello di uscita. Porta con te 5.000 dollari e un po' di alcol. Nicholas, cosa c'è che non va? Chiese la ragazza eccitata. Sei nei guai? Dove sei? Kate, sono al cancello. Ti ho detto che ti spiegherò tutto più tardi. Per favore, vieni, è urgente. Pochi minuti dopo, Kate arrivò di corsa, senza fiato. Prima consegnò a Nicholas i soldi e una bottiglia di limonata di plastica con dentro dell'alcol. Poi si guardò intorno e, non capendo nulla della scena e dei suoi personaggi, si mise un po', in disparte e tacque. Uomini, tenete i soldi e bevete questo per riscaldarvi. Stanchi per la giornata di lavoro, stiamo congelando, Nicholas cercò di adattarsi al loro discorso. Gli uomini si rallegrarono e bevero un sorso direttamente dalla gola. Così sto guidando, ho la gola bagnata, non lo farò più, disse l'uomo cupo dopo la bevanda calda, ma comunque un po' meglio. E andiamo. La finirai per strada. E si diresse verso la cabina. Aspetta, disse Nicholas dopo di lui. Ragazzi, vedete in che stato sono. Prendete il cane, per favore. Oh sì, nessun problema. I due accalappiatori andarono sul retro del camion, tirarono fuori il cane, che pendeva senza vita tra le loro braccia. E lo misero accanto ai cumuli di neve sulla strada. Ragazzi, ma la ragazza non vuole aiutarmi. Per favore, almeno trascinatela su quella panchina. Nicholas indicò una panchina più vicina all'edificio del sanatorio. Si congelerà nella neve, non posso sollevarla. Mettila sulla panchina e poi ci pensiamo noi. Wow, sei un uomo, ci hai messo nei guai. L'uomo Bonario beve altro alcol e mangiò una manciata di neve. Va bene, abbiamo trascinato il cane, quindi al diavolo, mormorò mezzo ubriaco. Sollevarono il cane per le zampe e lo trascinarono verso la panchina. Il suo corpo, trascinandosi, si agitò lungo il sentiero, ma Nicholas rimase in silenzio. È tutto regolare. Inseguiremo. Disse quello arrabbiato e andò a chiudere il retro del camion, le cui portiere erano rimaste aperte. Cazzo, a sinistra! Dove è quella bestia dai capelli rossi? Gridò all'improvviso. Nicholas nascose un sorriso. Il suo piano era riuscito. Mentre gli uomini gli parlavano, poteva vedere che la vecchia cagna lo guardava, ovviamente pensando a come uscire da quel freddo corpo di ferro. L'esperienza le aveva detto che non poteva aspettarsi nulla di buono da quegli uomini. Nicholas, invece, era dalla sua parte. Mentre i trapper bevevano, la vecchia cominciò ad aggrapparsi al cumulo di neve. La strada per arrivare a terra era lunga. Era un corgi tarchiato, quindi pensò di volare più vicino e più morbido nella neve. Nicholas la osservò con la sua visione laterale, diffidando di attirare l'attenzione su di lei. Si rese conto che un cane rosso su un cumulo di neve bianca sarebbe stato notato e che non sarebbe andato lontano con le sue gambe malate. E poi ebbe la salvifica idea di chiedere di portare il grosso cane. Gli uomini ubriachi avevano apparentemente dimenticato che c'era qualcun altro nel retro del camion. Avevano lasciato le portiere aperte quando avevano trascinato dentro il lupo. Sì, amico, incazzato, incazzato. Abbiamo lavorato per un giorno. E poi? Non riportiamo indietro nessuno? Diranno che abbiamo perso tempo e ci daranno un biglietto per un altro posto. Ragazzi, mi dispiace. Nicholas si distese tranquillamente. Spero che i soldi che ti ho dato coprano la multa e che ne rimanga un po' al Kate. Vai a prendere altro alcol per le persone in viaggio. Non vogliamo il tuo licore. Il bonario si è innervosito. Mangeremo e dormiremo. Vai, allora. Saluta il tuo cane gigante. E anche alla vecchia donna dai capelli rossi. Se la vedete, è fortunata se oggi si fumerà il cielo. I trapper salirono in macchina, sbatterono le portiere con rabbia e partirono. Nicholas, cosa è stato? Kate decise finalmente di parlare. Volevo salvare un cane, ma alla fine sono diventati due, disse Nicholas seccamente. Non so perché l'ho fatto, ma non potevo sopportare di vedere creature viventi portate alla morte. Mi chiedo dove sia scappata la rossa. L'ho vista cadere in un cumulo di neve, rialzarsi velocemente e allontanarsi verso il gazebo vicino al laghetto. Vado a vedere come sta. Non poteva essere lontana, quindi è andata da quella parte. Nicholas, nel frattempo, accarezzava il cane sdraiato sulla panchina. Il cane cercò di sollevare la testa, rendendosi conto che qualcosa era cambiato, ma la riabbassò esausto. Il ragazzo notò che la sua pelliccia era insolita al tatto, molto rigida. Sotto di essa si sentiva un sottopelo spesso e denso. Cominciava a fare buio e Nicholas accese i fari della sua carrozzina miracolosa per illuminare la strada, anche se non sapeva dove andare con il gigantesco cane sdraiato. Kate era tornata, e non da sola. La seguiva lo stesso vecchio cane dal pelo rosso, che zoppicava ancora più del solito, a quanto pareva essersi fatto male a una zampa quando era atterrato. Che ne facciamo di due in una notte d'inverno? Chiese la ragazza ridacchiando. Per cominciare, dobbiamo capire dove nasconderli. Una notte all'aperto potrebbe essere la loro ultima. Uno non si muove, l'altro può muoversi, ma con difficoltà. Con me, fanno tre disabili e Kate. È come tre autobotti, ma al contrario, non è vero. E Nicholas improvvisamente scoppiò in una risata non isterica. Anche se in una situazione del genere non sarebbe sorprendente, ma una risata allegra e gioiosa. Ok, Kate, mi dispiace. Era un po' di umorismo nero. Dimmi, cosa devo fare? Conosci il quartiere meglio di me? Dove posso mettere i cani? Sai, c'è un posto. Ci tengono le attrezzature sportive. Racchette, palline da tennis, pattini a rotelle. Sai, qualsiasi cosa affittino in stagione. Non credo che nessuno entrerà in quella stanza sul retro fino alla primavera. È nel seminterrato dell'edificio amministrativo. È riscaldata. Quindi possiamo provare a portare lì i cani. È sul retro dell'edificio. C'è una recinzione e un bosco. Nessuno ci va. Quindi, anche se abbaiano, è improbabile che qualcuno senta o pensi che gli animali randaggi del bosco abbaiano. Facciamo un tentativo. Come facciamo a portare un grosso cane lassù? È una buona domanda. Penso che dovremmo provare a metterlo sulla carrozzina. Dovremmo mettere qualcosa sotto, o meglio ancora, avvolgerlo in qualcosa. Sarà più facile farla salire. Questo è ciò che disse Nicholas pensieroso. Perché non prendiamo una coperta dal reparto? Quanto basta per avvolgerla, legarla e trascinarla dentro. Vado a prenderla, disse Kate. Poi la porterò in lavanderia e mi laverò velocemente. Mezz'ora dopo raggiunsero finalmente la stanza sul retro. Kate chiese la chiave alla receptionist. Si inventò di voler portare a casa le racchette da ping pong, perché le mani le facevano male dopo il massaggio e voleva riscaldarle con una partita. Dalla faccia dell'addetto alla reception, un ex militare sulla cinquantina, si capì che era estremamente dubbioso sulla storia, ma diede la chiave, poiché Kate si fidava di lui. La stanza sul retro si rivelò piuttosto spaziosa. Lungo le pareti c'erano scaffali che contenevano attrezzature sportive e materiale. In fondo c'erano gli spessi tubi dell'impianto di riscaldamento. È lì che Kate e Nicholas misero il cane di grossa taglia. Il cane, sentendosi caldo dopo essere rimasto intrappolato all'esterno per diversi giorni, si scongelò e cominciò a muoversi, si stiracchiò un po', si spostò verso il tubo e si sdraiò comodamente. Kate era riuscita a fare un salto alla mensa dei poveri all'uscita dalla cena e aveva chiesto del porrige avanzato e delle ossa di pollo, apparentemente per il suo cane domestico. Mol, non ha il tempo di comprare nulla. In ritardo sul lavoro, la lavandaia Bonaria ha caricato i suoi rifiuti in un sacchetto di polietilene. Quando Kate lo tirò fuori e gli aromi si diffusero nel retrobottega, il cane sdraiato si agitò ancora di più, iniziò a muovere le zampe, cercando di alzarsi, ma non ci riuscì ed emise uno strano suono che, a giudicare dall'intonazione, avrebbe dovuto essere un mugolio di supplica. Ma sembrava più un ringhio straziante. Il cane interruppe i suoi infruttuosi tentativi di alzarsi e guardò con aspettativa la borsa. Anche l'anziana donna si svegliò. Fino a quel momento si era limitata a camminare tranquillamente con i suoi salvatori. Avendo in qualche modo capito di non essere inseguita, si avvicinò timidamente a Kate e alla borsa, cercando di non mettersi davanti al muso del cagnolone, dandole la precedenza. La ragazza distribuì loro il cibo su dei cortoni trovati nel retrobottega. Non aveva pensato a ciotole o cose del genere. Il cagnolone si sollevò e, appoggiandosi alla zampa anteriore sinistra non ferita, mangiò velocemente tutto quello che era stato messo giù in pochi secondi, senza nemmeno masticare, ma ingoiando avidamente il cibo ancora caldo. Anche l'anziana signora con appetito, ma più lentamente, ha mangiato la sua razione e ha trascinato l'osso sotto la rastrelliera con i pattini a rotelle per masticare nella comodità di stare sdraiata con pensiero e disposizione. Naturalmente, le ossa di pollo non sono consigliate per essere date ai cani, ha sottolineato Nicholas. Ma non credo che loro e noi abbiamo molta scelta. Grazie, Kate, per la cena del cane. Non mi dispiacerebbe averne uno anch'io. Oh, Dio! È improvvisamente sveglio. Sono le nove. Come farai a tornare a casa da qui? Gli autobus, l'ultimo, sono partiti verso le otto. Non contavo su un autobus quando è iniziato tutto questo, disse Kate. Il responsabile della terapia avrebbe potuto darmi un passaggio fino alla metropolitana. Ma ero in ritardo anche lì. Lei alzò le spalle e sorrise dolcemente. Era alto, con i baffi e i capelli tagliati alla moda, disse Nicholas con una punta di gelosia. Anche se lui stesso non se ne rendeva conto. Ma Kate li colse e sorrise un po', più sorgnona. Sì, disse la ragazza, un uomo molto simpatico. Fece una pausa, trattenendo a stento una risata e osservando il volto di Nicholas che si scuriva. E continuò. Ha tre figli e anche un cagnolino. È un buon padre di famiglia, mi mostra tutte le foto della sua casa. Naturalmente voleva stuzzicare un po' Nicholas, ma visto lo stato di salute di quest'ultimo, la ragazza pensò che fosse comunque inopportuno. Professionale. L'infermiera ha prevalso sulla civetta che è in lei. Quell'uomo è venuto a farsi curare, non a darmi sui nervi, pensò. Vedo che è già più calmo, Nicholas si stiracchiò. Allora, dove passerà la notte? Sì, nel reparto, rispose Kate. Ci sono molte persone libere ora, non è il periodo delle vacanze. E in inverno c'è meno gente. Tra una settimana, per Capodanno, ci sarà la corsa a festeggiare. Nel frattempo, ci sono molti posti dove alloggiare. Bene, andiamo via da qui. Queste persone stanno già pensando di dormire. Nicholas agitò la mano in direzione dei cani. Spero che la notte passi tranquillamente. I ragazzi chiusero la stanza, raggiunsero il dormitorio e andarono nelle loro stanze. Al mattino, dopo la colazione e le procedure minime necessarie, Nicholas si diresse verso la stanza sul retro. Aveva deciso di controllare presto se i cani avevano fatto qualcosa e per questo motivo si era perso la sessione del bagno di perle. Il ragazzo aveva riso un po' al della procedura e della sua efficacia, anche se i medici insistevano sul fatto che tali bagni erano utili non solo per la pelle e per calmare i nervi, ma anche per alleviare i muscoli doloranti. Ecco perché gli era stato raccomandato. Ma Nicholas decise che un solo passaggio non sarebbe servito a nulla e alle 11 del mattino sgattaiolò il più possibile sulla sua sedia a rotelle dal blocco di terapia a quello di amministrazione. Cercò di non dare nell'occhio, perché a quell'ora i pazienti avrebbero dovuto essere al lavoro nel sanatorio, non arrancare tra i cumuli di neve del terreno. Quando si avvicinò alla stanza sul retro, sentì un ululato basso ma insistente. Quando Nicholas aprì la porta, un grosso e strano cane era seduto proprio dietro di essa, appoggiato al codino per evitare di appoggiarsi sulla zampa dolorante. L'ululato cessò immediatamente. Da sotto una rastrelliera di rulli si affacciò un'anziana signora dai capelli rossi con uno sguardo piuttosto tranquillo. Era evidente che aveva un po' paura della sua compagna e capiva che non avrebbe dovuto comportarsi in modo più sfacciato, ma si sentiva abbastanza a suo agio in sua compagnia. E poco più in là, vicino al muro, c'erano due mucchietti marroni più grandi e più piccoli. Oh, sono uno sciocco! Nicholas si diede uno schiaffo sulla fronte. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho avuto un cane mio. Devi essere portato a spasso! Non ci avevo proprio pensato. Chiamò Kate. Kate, mi dispiace disturbarti di nuovo. Prima di tutto, come stai dopo le nostre avventure di ieri sera? Sto bene, rispose allegramente la ragazza. Sono andata a letto quasi subito. Sono stanca. Ho dormito bene, già al lavoro. Oggi i pazienti non sono dalla mattina registrati più tardi e le finestre tra di loro grandi. Così c'è tempo per parlare. È meraviglioso! Nicholas era felicissimo. Ma mi dispiace, non sono qui per parlare, ma per chiedere il vostro aiuto. È di nuovo la mia tradizione. Perché, in secondo luogo, i cani hanno fatto un disastro qui. Già, non ci abbiamo pensato bene, sospirò Kate. Lasciatemi correre fuori e provare a portarli a spasso per mezz'ora. Fu una scena che ricordarono per anni. Kate con il cappotto invernale sopra la vestaglia, Nicholas nella carrozzina con le scarpe da ginnastica e il piumino, con il fiatone e il sudore. Sul retro del sanatorio. I due cani, sincronicamente accucciati parallelamente alla recinzione, con il muso rivolto verso l'altro, evidentemente tolleravano da tempo, per qualche motivo non ritenevano possibile profanare il retro con pozzanghere. Fatti i loro bisogni, i cani iniziarono a camminare lungo la recinzione, sgranchandosi le zampe. Senza guinzaglio o collare, ovviamente. Ehi, aspettate! Nicholas cercò di chiamare i cani per tenerli lontani dall'angolo dell'edificio dove avrebbero potuto essere avvistati. Kate, senti, dovremmo chiamarli in qualche modo. Sai, dargli un nome, voglio dire, non rispondono bene all'alzarsi in piedi. Sono d'accordo. Come dovremmo chiamarli? Wolfie e Orange. Uno ha i capelli rossi e l'altro sembra un animale selvatico. Scegliamo dei nomi normali. Ma ora dobbiamo riportarli in casa, disse Nicholas mentre spingeva la sedia a rotelle verso la porta sul retro, e i cani si staccarono dal loro importante lavoro e si misero a correre, ansiosi di tornare nel calore della casa. Bene, ottimo, disse Nicholas. Questa volta la questione era risolta. Kate decise di andare a prendere il resto della colazione per i cani. Nicholas, nel frattempo, entrò in casa e cercò di socializzare con gli animali domestichi. Allora, lupetto, come dovremmo chiamarti? Quali sono i nostri lupi famosi? Quello famoso che ha dato da mangiare a Romolo e Remo. Senza nome Anche se le hanno fatto un monumento a Roma, non le hanno dato un nome. La lupa capitolina Tutto qui Non ti sto dando della lente d'ingrandimento, ragionò Nicholas ad alta voce. Il cane lupo senza nome lo ascoltò con molta attenzione, tendendo le grandi orecchie rette. Kate tornò con il cibo e i cani si dedicarono alla loro attività preferita, mangiare il porrigge caldo. Questa volta con pezzetti di pesce. Nicholas raccontò alla ragazza le sue idee sul nome. Bene, continuiamo la catena logica, suggerì Kate. Cosa viene associato all'Italia in generale? Quali associazioni avete? Cosa ti viene in mente per prima cosa? La pizza? La pasta? Il Colosseo? Nicholas cominciò a esaminare il tutto. Kate Rice forse i nomi di donna sarebbero stati un'idea migliore. Si sedette accanto a Nicholas su uno sgabello accasciato e osservò i cani che sgranocchiavano. Simone la reginetta di bellezza. Ok, stavo scherzando, Kate Rice. Pensiamo alle attrici italiane Sofigina, Monica, Ornella, Isabella, Claudia. Basta! Facciamo Gina! Disse Nicholas. È un bel nome, corto, sonoro e si adatta al suo viso lungo, credo. Forza! Kate fu d'accordo. E il secondo, per non soffrire, propongo di chiamarlo consonantemente Dino, Gino e Dino. Che ne pensi? Sono d'accordo. Disse Nicholas. Si girò, guardò Kate e all'improvviso la raggiunse, le accarezzò il viso, la tirò a sé e la baciò. Era come se la ragazza aspettasse questo momento da molto tempo. Così prontamente rispose al bacio. Poi rimasero in silenzio per mezzo minuto e ripresero i sensi dall'esplosione di emozioni. Kate, capisco tutto, sussurrò Nicholas, guardandola negli occhi inondati di tenerezza. Ma cosa non posso darti? Parliamo ancora di ciò che puoi aspettare. E l'ho già fatto. La ragazza lo interruppe. Sono perfettamente a mio agio con voi, non tesa, direi. Non cerco di essere migliore di quello che sono, di mettere polvere negli occhi. Mi piace parlare con te di tutto. Mi piace il fatto che tu sia gentile, e mi dispiace, essendo in un brutto momento, che ti preoccupi anche dei cani. Quindi non parliamo del futuro, godiamoci il presente, anche se non ce lo godiamo più. Ho un paziente da gestire. Oppure possiamo andare insieme al recinto, ma solo in questo momento. Nicholas guardò i cani, che già sonecchiavano tranquillamente vicino ai tubi caldi, e seguì Kate. Il giorno successivo andò allo stesso modo. Lavoro da Kate, cure da Nicholas e cura dei cani. Ai ragazzi non piaceva affatto l'aspetto della zampa di Gina. Kate ha trattato le ferite del laccio con l'acqua ossigenata e ha applicato un unguento per far uscire il pus. Dopodiché, il cane era sorprendentemente abbastanza calmo da lasciarsi fasciare. Nei suoi occhi c'era qualcosa di simile alla gratitudine, una certa comprensione e accettazione della situazione. Si lasciava fare cose incomprensibili per la sua mente, rendendosi conto che queste manipolazioni la facevano sentire meglio. Le ferite si stavano rimarginando, la zampa era meno gonfia, ma il gonfiore non era scomparso del tutto e zoppicava sensibilmente quando camminava. I ragazzi decisero di cercare un veterinario che accettasse di andare in un posto così strano, nel retro del sanatorio. E anche per un cane insolito che sembrava un lupo. Trovammo un tizio di nome Alex che lavorava come veterinario in un'unità militare e non aveva paura degli animali di grossa taglia. Wow, che cane interessante! Il veterinario ha detto dalla porta di casa appena ha visto Gina. È un cane lupo. Ne è sicuro? Chiese Nicholas. Sai, ci hanno parlato di questa razza, ma la fonte non era attendibile. Pensavo fosse solo uno scioglilingua. Ma è proprio una razza? O cosa? Beh, è una specie di razza, ma non è riconosciuta ufficialmente. Dal nome si evince che l'incrocio tra cane e lupo è stato sperimentato soprattutto con i cani da pastore, e molto tempo fa. In molti paesi, negli anni venti del secolo scorso, gli olandesi allevarono il loro cane lupo. E negli anni cinquanta è apparso il cane lupo ciecoslovacco. Queste razze sono riconosciute dalla comunità internazionale. E ce ne sono molte altre che non hanno ricevuto questo onore. Basta ascoltare i nomi. Il cane da pastore Camming dalla Cina, il lupo italiano, il sekoku giapponese e il nostro pernvolkasop. Credo che questo cane appartenga a quest'ultimo. È improbabile che sia arrivato a noi dal Giappone. Alex Rice Durante il racconto ha esaminato attentamente il cane. Altri incroci Volkov con Aski Aski Malomute persino con barboncini. Ma questo è per vostra informazione. Poveri lupi! Poveri cani, riassunse il veterinario. Grazie per l'illuminazione, disse Kate. Da dove veniva un cane del genere? Non è venuto da Perm, vero? O c'è un canile nelle vicinanze? Oppure qualcuno l'ha comprato e l'ha buttato via? Non poteva gestirlo. Ma potrebbe essere scappata da sola. Questi animali sono molto diversi dai cani normali. Non amano gli spazi ristretti. Anche nei recinti hanno difficoltà. Hanno bisogno di più spazio possibile. Quindi, se a un cane del genere è stato permesso solo di correre nel cortile, è chiaro che non era sufficiente. Quindi potrebbe essersi liberato. È strano, disse Nicholas. E qui, nella nostra stanza sul retro, siede tranquillamente, non va da nessuna parte. Beh, perché si rende conto di non avere molta scelta. O muore malata e affamata, ma libera, o se ne sta qui tranquilla, si cura e mangia finché non recupera le forze. Sono molto intelligenti, molto più dei cani. Questo è ciò che dicono gli esperti della razza. E questi animali sono in un certo senso calcolatori, valutano la situazione, la analizzano da soli, senza istruzioni da parte di una persona, prendono una decisione. Così ora il vostro animale domestico si rende perfettamente conto che sta meglio qui e non c'è bisogno di scappare. È anche molto docile, ha sottolineato Kate. Cammina e reagisce al minimo movimento. Un piccolo cenno significa che ci rispetta, che ci capisce. I segugi prendono il controllo dai cani. Ma obbediscono agli umani se li rispettano. Bisogna guadagnarsi la loro fiducia, ma ne vale la pena. Sarà il vostro miglior protettore e guardiano in casa. È molto coraggioso e molto intelligente. Sa come valutare il pericolo. Non farà il furbo. Ma semmai si precipiterà in aiuto dei suoi padroni senza alcun comando. Anche se gli aggressori devono essere persone molto stupide, se lo facessero davanti a Volkasov qui da uno e dalla specie senza conoscere la razza, io scapperei, Traesalex. Il vostro cane sembra essere di ottimo sangue. Credo che li allevino da qualche parte qui vicino. Deve esserci un allevamento da qualche parte. I cani lupo sono poco popolari tra il pubblico. Non sono in molti a conoscerli. Vengono venduti soprattutto all'estero, ed è un segreto. Non credo che nella regione di Mosca ci siano tali intenditori. Ci è stato detto che nelle vicinanze c'è un'unità militare dove vengono tenuti questi cani, ha detto Nicholas. C'è un centro cinologico delle forze armate non lontano, a Knyatsevo. È molto famoso. Il più antico della Russia risale all'inizio del ventesimo secolo. Si sono spostati molto e si sono stabiliti qui a partire dagli anni Sessanta. Vi lavoravano militari e genetisti. Addestravano cani e persone per l'esercito. E non si tratta solo di compiti di guardia, ricerca e soccorso. Qui venivano addestrati i cani dei sabotatori, i comunicatori, i medici, i cani da slitta per portare fuori le persone, e venivano create nuove razze cane da guardia di Mosca, palombaro di Mosca, terrier nero russo, cane da pastore dell'Europa orientale, più popolari tra la gente. Sono stati tutti allevati in questo centro. Potete quindi immaginare la portata? Ma che abbiano a che fare con i Volkasov? Non ne ho sentito parlare. Era il centro cinologico PERM che si occupava di questi incrovi. Questo fu il termine dell'esame e della manipolazione della zampa da parte di Alex. Durante questo periodo ha pulito e trattato professionalmente le ferite, ha elogiato Kate per l'uso di disinfettanti e agenti cicatrizzanti, mi ha prescritto un antibiotico per tre giorni. E mi chiese di richiamarlo quando fossero passati. Prevedeva che il cane sarebbe stato molto meglio. I ragazzi ricordavano che i cacciatori avevano parlato di aver colpito Gina alla testa. Ma il veterinario non trovò lesioni o segni di commozione. Allo stesso tempo, ha tastato la vecchia Dina e le ha trovato un tumore alla ghiandola mamaria. Ha detto di tenerlo sotto controllo per un mese e, se dovesse crescere, di portare il cane in sala operatoria. Sopporterà l'anestesia? Ha chiesto Nicolas. Non si sa quanti anni abbia, ma è molto vecchia. Penso che in dieci anni sia sicuramente ingrassata molto, disse Alex. E per quanto riguarda l'operazione non si preoccupi, la farò in anestesia locale, se non morde. In ogni caso, non ci ha ancora provato. Una settimana dopo Gina era irriconoscibile. Pestava tutti i piedi. Aveva ancora un aspetto sparuto, ma nei suoi occhi c'era la sicurezza di un grande lupo. Il cane si muoveva molto durante le brevi passeggiate, ma non cercava di scappare. Era ansiosa di tornare alla sua tana al primo richiamo. Dina era la sua fedele compagna di coda, stava dietro, annusava tutto solo dopo Gina e si avvicinava ai giovani rigorosamente dopo di lei, come a sottolineare il suo secondo posto. E che non pretendeva di essere più di questo. I ragazzi avevano comprato loro collari in delicati colori rosa e insalata. Avevano anche fatto scorta di comportamenti, perché i cani avrebbero dovuto essere trasferiti presto. Ma non è chiaro dove. Finora nessuno si era accorto degli animali, anche se Nicholas aveva il sospetto che l'amministratore, un ex militare, facesse solo finta di non accorgersene, ma si rendeva conto che tutto era sotto controllo e non si poteva interferire. Il piano era di aspettare le vacanze di Capodanno e poi organizzare un trasferimento di massa. Circa una settimana dopo Natale i 28 giorni di permanenza di Nicholas nel sanatorio Scadero e dovettero pensare a dove mettere i cani e a dove vivere. Kate affittò un appartamento. Era un monolocale alla periferia di Mosca. Ma i proprietari dissero che nemmeno i gatti erano i benvenuti nel loro appartamento, figuriamoci due cani di strada di razza non identificata. Prima di andarsene, i ragazzi decisero di cercare di scoprire da dove provenisse un cane di una razza così rara. E se il padrone lo stesse cercando? Sarebbe più facile portare con sé una vecchietta, ma è improbabile che qualcuno affitti una casa con un lupo. I giovani non conoscevano l'indirizzo della casa in cui il cane era stato intrappolato, ma conoscevano il quartiere. Hanno provato a fare una ricerca su internet, ma non ha portato a nulla. Non c'erano risultati alla richiesta dei Volca di geolocalizzazione nella regione di Mosca. Kate chiese a persone del posto che aveva incrociato alla fermata dell'autobus mentre tornava a casa. Neanche loro sapevano nulla. L'aiuto arrivò da un luogo che non si aspettavano. Un giorno Nicholas fu chiamato dal receptionist, un ex militare. Senti, ragazzo, lo capisco, ma gli animali devono andarsene. Non ho detto nulla. Ma i pazienti iniziano a notare un cane gigante e mi chiedono di intervenire. La direzione mi ha già gridato di chiedere l'abbattimento, ma io continuo a rimandare. Ma capite bene che se non faccio il mio lavoro verrò cacciato dal lavoro. Oliver, Nicholas ha letto il nome sulla targhetta. Mi creda, ci piacerebbe, ma non possiamo. Sono praticamente un senza tetto. Non c'è un posto dove andare in questo momento. Ehi, Kate! Beh, lei è un uomo attento. Credo che abbia notato che stiamo insieme. Beh, lei è in un appartamento in affitto e non accettano animali. Stiamo cercando di trovare i vecchi proprietari del cagnolone, se ce ne sono. Ma la razza è un raro Walkas e le persone non pubblicizzano la presenza di Mix Lupo Cane nelle loro case. È quindi difficile scoprire la sua provenienza. Ma la cercheremo e prenderemo comunque la vecchia signora, non si preoccupi. Alcefalo, hai detto? Credo di aver sentito dove li tengono da queste parti. Vado a controllare i miei canali e a cercare una specie di vivaglio. Nel frattempo, non disturbare gli occhi della gente e vai in giro al buio. Chiese Oliver. Già dopo un paio d'ore fece discretamente cenno all'ospite da dietro la sua scrivania, che svolgeva il ruolo di reception del sanatorio. Senta, ho scoperto che nelle vicinanze c'è una struttura paramilitare, ma ufficialmente non è collegata al Ministero della Difesa, anche se non è lontana da un grande centro cinofilo militare. Quindi chi conosce questi militari con i loro segreti? Oliver sorrise con consapevolezza. Lì questi cani vengono allevati per la sicurezza su richiesta di persone molto ricche e anche per le riprese cinematografiche, perché non è possibile inquadrare un vero lupo. Se, grazie alla fervida immaginazione dello sceneggiatore, ne esiste uno? Oliver ha riso. Va bene, mi permetta di contattarli. Ora chiederò loro direttamente se hanno perso un cane e dopo le vacanze decideremo cosa fare dopo. Sto per partire per un grande weekend. Grazie. Grande come un lupetto. Nicolas rideva. Ora staremo zitti. Non preoccuparti, non ti deluderemo. Non dovremo ostentare la nostra presenza tra i vacanzieri. Saranno qui per le vacanze. Potrebbero pensare, da ubriachi, che il lupo sia arrivato dalla foresta e non sarebbe divertente per tutti. Gli uomini risero. La cosa finì lì. E poi il trambusto di Capodanno prese il sopravvento su tutto e tutti. Per un'intera settimana le procedure mediche vennero quasi interrotte, si limitava a fare il minimo indispensabile. La maggior parte del personale andò in vacanza. E anche la maggior parte dei pazienti fu portata a casa dai parenti durante questo periodo. Di tanto in tanto arrivavano macchine in cui le persone, anche se non molto in salute, ma molto felici per l'attesa delle vacanze, salivano e tornavano a casa. I posti liberi venivano affittati per le vacanze a compagnie e coppie che volevano festeggiare il nuovo anno fuori città, all'aria aperta, in un relativo silenzio. Nicholas non aveva un posto dove andare. Kate decise di festeggiare la festa con lui ed espresse il desiderio di uscire come infermiere in servizio la sera di Capodanno. Inaspettatamente, Lily e suo marito si unirono alla loro piccola compagnia. Non avevano programmi particolari per le vacanze. Decisero che lui sarebbe venuto al sanatorio con un buono per tre giorni, in modo da poter trascorrere un po' al di tempo tranquillo insieme senza doverlo passare viaggiando da casa e ritorno. Nicholas temeva come Gina e Dina avrebbero vissuto i fuochi d'artificio di Capodanno, organizzati anche al sanatorio, sebbene non così grandi come in città. Ma non c'era via d'uscita. Si poteva solo sperare che i cani non si spaventassero troppo. Tuttavia, i ragazzi decisero che per ogni evenienza sarebbe stato meglio non lasciare gli animali da soli. E dopo l'incontro ufficiale del nuovo anno vale la pena visitarli. Ed ecco i tanto attesi rintocchi, così autotoni da annunciare l'inizio di un nuovo anno di vita per tutti. Nell'auditorium le persone ridono. La musica suona. Il centro della sala viene liberato dalle sedie. Le coppie girano in cerchio, tra cui Lily e suo marito. Un uomo anziano e una donna in sedia a rotelle, che mantengono un'eleganza sorprendente nella loro danza, appaiono molto toccanti. In seguito, sono tornati ai tavoli di cibo e bevande disposti lungo le pareti della sala. Nicholas e Kate li stavano aspettando lì. Perché non state ballando? Chiese Mike, il marito di Lily, prendendo posto. Hai visto come abbiamo imparato bene? Prenderemo lezioni da te. Non siamo ancora pronti per un simile passo. Nicholas Rice Kate, Lily si rivolse alla ragazza. Vedo che sei una persona seria. Non hai paura delle difficoltà e sei buona con Nicholas. Quali sono i tuoi progetti? Non la prenda come una domanda sconveniente. So dalla mia famiglia quanto sia difficile costruire un rapporto con un uomo su ruote. Io e Mike abbiamo passato un anno buono ad abituarci l'uno all'altro, perché siamo determinati a lottare per la felicità. Anche se all'inizio sembra difficile. Sono di umore sereno, rispose Kate. Farò tutto quello che posso al meglio delle mie possibilità. Ma, sapete, mi piace risolvere i problemi man mano che si presentano. Adesso ci occuperemo dei cani e poi penseremo a cosa fare. Dobbiamo trovare un altro posto dove vivere, anche se temporaneo. Dove ci lasceranno con un coccodrillo del genere? Sto parlando di Gina, ovviamente. Senti, perché non veniamo a casa nostra? Disse improvvisamente Lily. A giudicare dall'espressione di Mike, non aveva discusso con lui di questo problema. Viviamo in una casa privata, a Zelenograd. Abbiamo cambiato l'appartamento di Mosca, il mio. Abbiamo abbastanza spazio nel rumoroso centro polveroso per una bella casa vicino alla foresta. Sì, è attrezzata, paesaggistica con il resto dei soldi dell'appartamento di Mosca. I cani possono essere sistemati in casa, in cucina e nel soggiorno. Non li lascerò in camera da letto, mi dispiace. Ed estate, se resterete con noi, staranno bene all'aperto. Abbiamo un grande terreno. No. Beh, non siamo comodi, ha detto Nicholas. Cosa c'è di scomodo? Capisco. Ti chiedi perché all'improvviso sono così generoso? Nicholas, credo che Kate ti abbia raccontato tutta la mia storia. Non credo che l'abbia fatto. Le ho chiesto di farlo, ma in questo caso sono favorevole, perché credo che non ci debbano essere segreti tra una coppia. Altrimenti non è una coppia, sono solo due coinquilini nel senso peggiore del termine. Ma questo è ciò che voglio dire. La mia bambina, Paulie, avrebbe già l'età di Kate. Non ho potuto vedere la sua vita, essere orgogliosa di lei, aspettare i proverbiali nipotini. E mi sento come se mi avessero fregato. Non sono così fortunata e sono già al verde. E non posso vivere così. Solo con il mio meraviglioso marito. Voglio una casa piena di gioventù, felicità, speranze e progetti. Penso a Kate come a una figlia. È stata una brava ragazza per molto tempo. Lavora sodo, è gentile e crede in Dio. Non riesco a capirlo, ma la rispetto per la sua purezza di pensiero e di intenti. Se la sua fede è sincera, non c'è altro modo. Quindi pensate, ragazzi, vi chiamo dal profondo del cuore e i cani non saranno un ostacolo. Al contrario, mi importa abbastanza delle anime vive. Sinceramente. Kate, non piangere. Kate ha pianto davvero. Nicholas la guardò con affetto. Grazie, Lily. Dal profondo del cuore, disse il ragazzo. È un'offerta molto inaspettata e generosa. Credo che accetteremo, perché non abbiamo molta scelta. Ma per amor di decenza, discutiamo nel nostro consiglio di famiglia e prendiamo una decisione. Nicholas sorrise sinceramente. Certo, ragazzi, pensiamoci su. Mike Rice. Non mi dispiace nemmeno la sua compagnia, se non è un problema. È venuto fuori all'improvviso. Ma la mia moglie preferita è sempre così improvvisa. Ha sorpreso sua madre, anche se io stesso ho ricevuto visite di ogni tipo. Baciò la guancia di Lily con un sorriso. Nicholas e Kate andarono a visitare i cani. A luna di notte c'erano i fuochi d'artificio. Decisero di recarsi dagli animali prima di quell'ora per stare con loro durante il cannoneggiamento e portarono del cibo per gli animali. Dalla tavola delle feste un paio di pezzi di salsicce diverse, una fetta di carne al forno. Così, per non essere sfacciati, abbiamo portato dalla tavola comune, ma anche per accontentare gli animali con cose gustose. Abbiamo preso una bottiglia di champagne e panini con pesce, formaggio e un paio di mandarini. Con tutto questo bagaglio festivo gettato nella carrozzina, si sono diretti verso la stanza sul retro. È come fare il catering per i cani, a riso Kate, gelata dal gelo e dallo champagne precedente, consegnando le chicche allo stand. Beh, sì, viene fuori una vacanza insolita, concordò Nicholas. Quest'anno per me è cambiato tutto. Mi sono incontrato l'anno scorso in un caldo appartamento come un uomo sano con una potenziale sposa e progetti per la vita. E ora sto guidando una carrozzina di notte per dare da mangiare ai cani randaggi. E con una ragazza semplice e una sposa semplice. Sentivo il risentimento nella voce di Kate a Nicholas. Di cosa stai parlando? Sei la ragazza migliore del mondo. E non lo dico tanto per dire. Lo penso davvero e ti amo molto. È un peccato che ci siamo incontrati in queste circostanze e che io non possa darti una vita piena. Nicholas, la ragazza lo ha interrotto. Non ricordiamo il passato in vacanza. Pensiamo a cosa sarebbe successo se fosse accaduto. E rimpiangere quello che è successo. Non lo rimpiango. Ti ho conosciuto. È una buona cosa. Facciamo in modo che questa sia una notte da ricordare. È il nostro primo capodanno insieme. E non sarà l'ultimo. Nicholas guardò teneramente la ragazza. Lo spero, sorrise lei. Anche i cani sentirono l'importanza del momento. Dina si avvicinò a Kate e appoggiò il suo ventre caldo contro le sue gambe. Gina si avvicinò a Nicholas, si sedette accanto a lui e gli mise il muso in grembo. Lo guardò negli occhi con uno sguardo molto strano. Non aveva la solita adorazione incondizionata dei canini. Gli occhi ambrati erano un po' sorpresi e fissavano Nicholas. Ci si poteva affidare di quest'uomo? E come ci si poteva affidare? Sembrava che il cane stesse provando sentimenti nuovi e inaspettati. Interessante, disse Nicholas. Ho letto su internet che i Volcasov hanno un culto speciale, che non è caratteristico degli umani. Non sono attaccati a noi, non cercano di essere sempre in giro e non hanno paura della solitudine. E piuttosto ostinati. Per noi, come ci è stato detto, hanno una buona memoria, memorizzano rapidamente i diversi comandi, il terreno, l'ambiente circostante, ma possono ignorare gli ordini di una persona e agire secondo i propri. Ecco perché di solito vengono presi da cuccioli, per comunicare costantemente, per stabilire fiducia e rispetto. Se si lavora su tutto questo, allora questi cani si comportano in modo obbediente, ma non vi obbediscono, e come se più per sentimenti amichevoli facessero quello che volete, non per semplice fedeltà canina. Creature interessanti insomma, molto impegnative, ma i temi sono interessanti. Sì, e ho letto che considerano la famiglia del loro padrone come un branco e vogliono comandare. Kate l'ha capito. E la cosa più curiosa è che gli altri animali non gli piacciono, li considerano alla pari. Ed è strano che vada d'accordo con Dinka. Non ha paura di lei. Dinka, che si era abituata rapidamente al suo nome dopo un decennio di esistenza senza nome, alzò il muso e guardò Kate. Poi guardò Nicholas. Si rese conto di ciò che si stava dicendo di lei. Terminò l'ispezione delle persone a lei affidate e, senza aspettare ordini, sospirò senilmente e si accoccolò ai piedi di Kate. I giovani rimasero seduti nella stanza sul retro fino a quasi le tre del mattino. Le conversazioni erano intervallate da baci, ma Kate non permise loro di andare oltre. La religione prima del matrimonio non lo permetteva. Chiese Nicholas un po' astuzzicato. No, è solo che non credo sia possibile per me avere un'intimità frettolosa in un reparto di un sanatorio, figuriamoci in una stanza sul retro con dei cani. Kate rispose. Mi fa star male pensare che il ricordo di quella prima notte possa essere così. Capisco, rispose Nicholas. Sono d'accordo. Aspettiamo condizioni migliori. E così la loro notte di Capodanno a due continuò con sorsi di champagne, nuove storie e scoppi di risate. Ai fuochi d'artificio i cani hanno assistito con assoluta calma e hanno dormito tranquillamente, senza interferire con la conversazione. Dopo il Capodanno i giovani non si sono visti per diversi giorni. Il sanatorio era in fermento. Affollato di festeggiamenti salutari, Kate ebbe il fine settimana libero e tornò a casa per prepararsi a trasferirsi da Lily e Mike. Con Nicholas si chiamavano in collegamento video più volte al giorno. Discutevano di ciò che dovevano comprare per la nuova casa, di ciò che Kate avrebbe portato con sé. I pochi effetti personali e i vestiti di Nicholas. La sua ex fidanzata Mia li aveva trasferiti da un conoscente. Ora dovevano essere portati via anche loro. Quando Kate tornò al sanatorio, e l'istituto stesso ha la sua vita misurata, Nicholas iniziò a fare lentamente i bagagli per il suo nuovo posto di residenza. Il corso di riabilitazione di Lily stava per terminare un po' prima, ma decise di prolungare il viaggio di un paio di giorni per aspettare Nicholas. E tutti loro sarebbero andati a Zelenograd in auto. Il giorno della partenza fu memorabile. L'auto non era autorizzata ad entrare nel territorio e l'allegra compagnia dovette mostrarsi davanti a tutti. Nicholas e Lily viaggiavano in passeggino. Ai lati camminavano Mike e Kate. Nei poggi che il marito di Lily aveva comprato e portato con sé. I due cani sfilavano. Mike teneva in braccio il piccolo Dinka, che camminava tranquillamente, e Kate conduceva la grande Gina, un lupo che camminava elegantemente con le zampe fuori dalle orecchie. A Kate era stato affidato il compito di condurla, poiché il cane conosceva già la ragazza. Ma Mike era onestraneo per lei e, date le peculiarità della razza, era meglio non passargli il Volkasov. La processione era impressionante. I pazienti che passeggiavano per il territorio, persino i medici eternamente indaffarati e frettolosi, si fermavano per osservare meglio questo quadro di persone, cani, carrozzine. Alla fine la compagnia raggiunse e raggiunse l'auto. I cani furono messi nel bagagliaio. Lily e Nicholas furono messi sul retro. Le carrozzine furono attaccate al tetto, Kate si sedette accanto al guidatore e finalmente partirono in direzione della loro casa comune. Non appena si allontanarono, però, Lily chiese a Mike di deviare dalla strada verso il fiume. Sorpresa, disse. C'è un monumento insolito che voglio mostrarvi. Arrivarono al punto indicato da lei e scesero dall'auto, quasi sulla riva del fiume. Un cubo di cemento bianco con sopra la scultura di un cane Rottweiler si ergeva su un cumulo di terra circondato da cordoli del marciapiede. Leggermente chinata la testa, come se studiasse coloro che si rivolgono a lui, la targa recitava Monumento a Sultan, il cane preferito della Contessa Panina. Io e te, Nicholas, non siamo mai usciti per una passeggiata, ma volevo mostrarti questo posto, disse Lily. E non sei l'unico. Probabilmente è un bene che siamo tutti qui insieme. Tutto in questo mondo accade per una ragione, credo. Mi sono documentata sulla storia del monumento. Questo cane Sultan, vissuto intorno alla fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento non si sa esattamente, ma secondo la leggenda, fu il primo Rottweiler portato in Russia, e la sua padrona, la stessa Contessa Panina, era una persona molto interessante. Una nobilissima signora Sophie, che al suo matrimonio si chiamava Alessandro III, lo zara in persona. Allo stesso tempo, era contraria all'autocrazia, tanto da essere soprannominata la Contessa Rossa. Aiutò molto i poveri, aprendo per loro scuole, ospedali, mense gratuite. Dopo la rivoluzione di febbraio del 1917 entrò a far parte del governo provvisorio, ricoprendo il ruolo di viceministro dell'assistenza statale e poi dell'istruzione. Poi i bolshevichi la arrestarono, ci furono dispute finanziarie e, non credetemi, la lasciarono andare per rispetto alla sua personalità e ai suoi meriti. E alla fine la Contessa emigrò negli Stati Uniti. Ecco dove voglio arrivare. Chi si ricorderebbe di una biografia così ricca, apparentemente, di una persona meravigliosa, se non avesse dato tali onori al suo animale domestico? Immaginate, è passato un secolo e mezzo, e noi sappiamo dell'esistenza di sultane e siamo interessati alla sua amante. Ecco perché considero questo monumento non ha un cane, ma ha un essere umano e non ha una particolare soffipanina, ma in generale all'amore, alla cura e alla devozione umana. E auguro a tutti noi di essere persone di questo tipo e di rimanerlo nonostante tutte le difficoltà. Tutti rimasero in silenzio a riflettere sulle sue parole. «Sì, Lily, sono d'accordo», disse infine Nicholas. «Bene, l'hai detto, ed è stato giusto portarci qui. Mi sento più fiducioso. Dopotutto, finché ci saranno persone come voi, pensanti, oneste, che cercano di aiutare in modo disinteressato, non mi perderò. Mi dispiace essere così schietto. Ma sono solo sollevato. Non conosco Mike quanto me, ma non sceglieresti un uomo cattivo come tuo compagno, vero? Sono anche un po' al sicuro di Kate, ma ho tanta paura di una nuova relazione. «L'ultima è finita, sai com'è finita. Ma mi rendo conto che, dato che hai raccontato a Kate molte cose della tua vita, cose che non diresti a tutti, significa che ti fidi di lei. Non ti fideresti di nessuno. Ecco perché anch'io mi sento a mio agio con Kate. Perdonami, raggio di sole, per la mia franchezza». Guardò la ragazza con uno sguardo che implorava comprensione. «È un'osservazione interessante», sorrise Kate. «Ma so cosa vuoi dire». «Non c'è problema. Ne parleremo più tardi». «Sì, andiamo», disse Mike. «Io sono i ragazzi». «Un uomo, forse non così filosofico, ma vivo». «E gelido», sorrise l'uomo. «E compatite i cani, che già ci guardano con ansia. Andiamo a casa, ne parleremo lì». Due ore dopo arrivarono nell'accogliente casa di Lily e Mike. I ragazzi andarono a sistemarsi nella loro stanza al piano terra, accanto al soggiorno, alias la sala da pranzo. I proprietari salirono al piano superiore, nella loro camera da letto. I cani si aggirarono con interesse per il pavimento, annusarono con attenzione la porta chiusa della cucina, da cui provenivano gli odori del pranzo di Mike, e poi trovarono i cuscini per cani disposti per loro nell'angolo del soggiorno vicino al termosifone. Sembravano soddisfatti di tutto e con un senso di realizzazione. Il giro dell'area è completato. Si sono sistemati nei loro nuovi posti. Dopo un'ora di disfacimento minimo, tutti si riunirono per il pranzo nella sala mensa. «Come va, compagni?» Cominciò Mike. «Ecco il piano. Oggi ci riposiamo. Sì, siete in vacanza in un sanatorio, come sembra. Ma le procedure mettono a dura prova il corpo. Quindi, dopo una vacanza del genere, è necessario riposare. Non importa quanto sembri paradossale. C'era un autista che conoscevo nel mio ultimo lavoro. Tornato da un sanatorio, si sedette con i suoi figli per festeggiare. Bevero molta vodka, andarono a letto e non si svegliarono più. Il suo cuore si fermò. Tutti al lavoro erano scioccati. Era così entusiasta della sua vacanza. Non andava in vacanza da molto tempo e così è andato in vacanza. Quindi oggi non facciamo mosse improvvise. Passeggiate per il terreno, ho fatto la recinzione più alta, ho messo delle tavole per il cane, disse l'uomo ridacchiando del suo gioco di parole. Così i Wolkosov non salteranno oltre. Ho letto che possono scavare, perché sono molto amanti della libertà. Gina, vedo, non sta ancora correndo da nessuna parte, ma non ha abbastanza forza per le imprese. Quindi ho preso delle precauzioni. Bene, oggi restiamo a casa e domani andremo a cercare la tua parte di cane e lupo o dove li allevano lì. Tutti furono d'accordo e la giornata trascorse in un clima di chiacchiere tranquille. Kate e Lily si diedero da fare per cucinare per la numerosa famiglia, compresi i cani. Gli uomini riordinarono il terreno. Mike Tenne occupato Nicholas, ma non lo fece sentire indifeso da dietro la carrozzina. Senti, con il tuo motore elettrico pulisci i sentieri più velocemente di me, e gli porse una pala. Ed effettivamente, posizionando comodamente l'attrezzo davanti alla carrozzina e guidando alla minima velocità, Nicholas in pochi minuti ha liberato dalla neve tutti i sentieri necessari. Poi, hanno raccolto dei rami. Mike li consegnò a Nicholas, che li spezzò e li mise in un sacchetto, per poi portarli nel capanno vicino al bagno per riscaldarli. Decisero di rimandare il bagno turco per il momento, tenendo conto dello sforzo sul cuore, che poteva essere fatale dopo le procedure. Mike era molto spaventato da questa storia. In seguito Nicholas e Kate fecero una lunga passeggiata di quasi un'ora e mezza con i cani. Avevano letto che i Volca hanno bisogno di molto esercizio fisico. Sono naturalmente molto attivi e resistenti e possono percorrere lunghe distanze senza riposare, il che va bene per il servizio, ma con moderazione. Hanno bisogno di utilizzare questa energia e le grandi riserve di forza da qualche parte. Pertanto, dovrebbero essere portati a spasso il più spesso e il più a lungo possibile. In particolare, è stato raccomandato di trascorrere molto attivamente con loro la sera, quando questi animali, proprio come i lupi, hanno un picco di attività. Così i ragazzi andarono a fare un'escursione fuori dal settore privato, dove vivevano Lily e Mike. Suggerirono che nelle vicinanze c'era un grande terreno incolto, dove avrebbero potuto far correre i cani. Incuriositi, mentre passavano davanti alle case dei vicini, i cani cominciarono ad alzare la voce da sotto le recinzioni, imitando la coraggiosa guardia della proprietà a loro affidata. Ma dopo un paio di volte si fermavano. Alcuni si zittivano, altri piagnucolavano e smettevano subito di abbaiare, probabilmente avevano intuito che stavano passando davanti a un animale non proprio comune, ma con il quale era meglio non entrare in conflitto. I ragazzi raggiunsero la fine del settore, guidarono lungo il terreno incolto, la carrozzina era dotata di buone ruote da fuoristrada e non si bloccava nel fango. Sganciarono i guinzagli dai collari dei cani e si fermarono a guardarli mentre si aggiravano, imparando nuovi odori e altri piaceri della passeggiata. Nicholas ricordò il suo cane Vesta, che aveva avuto all'inizio dell'adolescenza, quando stava finendo le scuole superiori. Beh, era una risaiola, davvero! Rideva. È così che la gente del posto, da sotto le recinzioni, ora ci urla controintimandoci di stare alla larga. Così alla mia voce piaceva prendere un cane e abbaiare basso. Era così prepotente con tutti. Era un labrador. Razza socievole. Avevo un bastardino, diceva Kate. Un giorno mi seguì per strada. Ero solo una bambina e lei mi accompagnò a casa. E i miei genitori mi hanno permesso di tenerlo. Questo è il tipo di cane su cui la vita si è abbattuta. Sono rimasti senza padrone, senza cibo e a casa sono più cauti e tranquilli. La mia, poi, non ha mai intralciato nessuno, se si è avvicinata a lei per fare conoscenza. Era educata, chiacchierava, non si scontrava. Era così accomodante. Come i nostri d'Inca. I nostri! ha sottolineato Nicholas. Nostra! Ma dove la metteremo? È una perdita di tempo. Mi sono iscritta a vari gruppi di volontariato su Facebook. Non ci sono liste d'attesa per gli anziani, quindi dovrebbe vivere una vita calda e ben nutrita con noi. Non mangia molto, non ha bisogno di molte attenzioni. Se non le dispiace, vorrei tenerla. Non mi dispiace. Dato che l'ho salvata dalle gabbie, ora dovrei essere responsabile del suo destino, sorrise Nicholas. La sera cenarono amichevolmente e andarono a letto presto. Quella sera Nicholas e Kate poterono finalmente avere un po' di normale intimità. Al mattino Lily, vedendo i volti felici dei ragazzi, pieni di tenerezza, capì tutto, ma rimase in silenzio. E durante la colazione, quando ebbe un momento, strizzò l'occhio a Nicholas con un'espressione come se ti avessi detto che si sarebbe risolto tutto. I ragazzi impiegarono un'altra ora per portare a spasso i cani. Infine, Mike, Nicholas e Kate si recarono nel luogo di cui Oliver, l'amministratore del sanatorio, aveva dato loro le coordinate. Gina fu portata con sé. Lily decise di rimanere a casa con Dinka, che non aveva bisogno di essere portato con sé. dopo 40 minuti di viaggio, arrivarono a un'alta recinzione di cemento nel bosco. Non c'era nessun cancello o almeno nessun cancello visibile. E non si sentiva nessun cane a bagliare. Nicholas telefonò a Oliver. Scusa se ti disturbo. Siamo arrivati in questo posto dove dovrebbero vivere i Volkasov. Oh, è un modo strano di dire le cose. Sì, ho capito, disse Oliver. Non potete entrare, vero? Non credo. Ci deve essere la sicurezza. Le darò il numero per contattarmi. In un paio di minuti Nicholas compose il numero di Jack. L'uomo che rispose era consapevole della situazione. Lasciate l'auto, disse, e attraversate il tubo della foresta sul lato destro. Lì ci sarà un posto di blocco. Nicholas rimase un po' al sorpreso dal fatto che sembrava esserci un intero posto di blocco nel bosco. Ma quando arrivarono sul posto, c'era davvero un posto di blocco dietro un piccolo cancello che si apriva a distanza. C'era uno stretto passaggio tra muri di cemento. E poi la strada era bloccata da una barriera. Un uomo dall'aspetto severo si avvicinò agli ospiti. Oh, non sapevo che foste su una sedia a rotelle. Disse sorpreso. Ma non possiamo entrare qui in nessun altro modo. Io sono Jack. Stavamo parlando con lei. Andiamo. Dov'è il cane? L'hai lasciato a casa? Ha avuto un'idea? No, è in macchina. Non sapevamo se portarla subito in casa. beh, andiamo a darle un'occhiata per vedere se è la nostra naida. Ma probabilmente non è una razza molto popolare per usare un ufemismo. Abbiamo appena avuto una bambina che è scappata da noi. Tu, disse a Nicolas. È meglio che tu rimanga qui così possiamo stare tranquilli. e torneremo qui in un attimo. Non è possibile. Nicolas sorrise. Prima di tutto vi supererò tutti con la mia super sedia a rotelle con un fischio. In secondo luogo e soprattutto il cane non vi farà salire in macchina, siete degli estranei. Cosa vuol dire estranei? Se siete nostri, siete suoi. Ma io non rischierei. I Volkasov non accolgono gli estranei nel loro territorio, in questo caso nell'auto. E suppongo che abbia riconosciuto in lei il suo padrone? Sì, ha detto Nicolas. Anche se nella mia posizione attuale è molto più forte di me e ha più spazio di manovra. Ma suppongo di sì. Mi obbedisce senza fare domande. Ma con che a volte finge di essere sorda? Capisco. Allora andiamo tutti insieme. Nicolas vide Gina che lo guardava dal bagagliaio mentre si avvicinava all'auto e disse con sicurezza Sì, è la nostra Naida. Ma è meglio che tu apra il bagagliaio. Lascia che mi annusi prima che il cane sia uscito. Si avvicinò a Jack e scodinzolò. Potrebbe essere considerato un saluto, disse. Creature trattenute, non molto emotive. Mi riconosce, dimostra di essere contenta. Vai, disse al cane e lei lo seguì con calma. È una parola familiare, spiegò Jack. Qualcuno dà il comando vieni o vai a me. Vai è più breve e ci siamo abituati. Tornarono al posto di blocco con il cane. Jack aprì la barriera e li condusse all'interno del parco. Chiese di liberare Gina dal guinzaglio e lei iniziò felicemente ad annusare tutto ciò che c'era intorno, per poi correre verso i recinti dove i suoi parenti stavano passeggiando. C'erano una dozzina e mezzo di animali e ognuno era sistemato in una sezione separata e recintata. Gina ha abbracciato tutti attraverso la rete e sembrava molto contenta dell'interazione. È interessante che tutti i cani fossero tranquilli, senza abbaiare, ha osservato Kate. Sì, non abbaiano molto, ma possono ululare, ma non molto spesso. Sulla luna, come i loro antenati, i lupi e gli aerei dicono li infastidiscono. Qui non abbiamo aeroplani, grazie a Dio. Ma in generale sono cani tranquilli. Si avvicinano di soppiatto e ti mangiano in silenzio, disse Jack ridendo. Sto scherzando. Andiamo a prendere una tazza di tè e parliamo di cosa fare dopo. Gina fu lasciata a scorrazzare per il territorio, di cui ovviamente si ricordava, e la gente versava tazze di tè aromatizzato. A base di erbe locali. Mentre Jack raccontava, per merenda portò della marmellata di fragole dall'odore semplicemente stupefacente e dei panini a fette. Scusate, la mandata Dio. La mensa è chiusa fino all'ora di pranzo e qui abbiamo un orario preciso. È il regolamento dell'esercito. Dopotutto, siamo tutti ex militari e non si può avere disciplina con cani del genere. Lasciate che vi dica cosa facciamo qui e della nostra Naida. L'abbiamo chiamata così in onore del suo genitore. La lupa da cui discendono tutti i Volkasov russi. Viveva nella regione di Perm negli anni 2000. Un cacciatore in un villaggio remoto. Raccolse l'animale quando era un cucciolo di due settimane e lo allevò da solo fino all'età di due anni. La lupa è cresciuta in modo molto amichevole, cercando la compagnia dell'uomo. Poi l'uomo, per qualche motivo, decise di vendere la lupa. Alla fine, l'animale fu acquistato dal professor Kasimov dell'Istituto delle Truppe Interne di Perm del Ministero degli Affari Interni. Egli ha subito apprezzato questa creatura unica. Di solito i lupi sono super prudenti e vigliacchi in preda al panico. Neida non era così. Si fidava di persone sconosciute, temeva con moderazione. Quindi si comportava come un cane normale. William, questo il nome del professore, decise di provare a incrociarla con un pastore tedesco, come era stato fatto prima di lui e in altri paesi. Ma Neida si rivelò molto esigente e non permise a nessuno di avvicinarsi a lei per quattro anni. Ma alla fine non riuscì a resistere al bel barone. Da questo grande e puro amore nacquero due cuccioli ibridi, Goe e Dina. Dina! Kate esclamò, wow, è così che abbiamo chiamato l'altro nostro cane. È una lunga storia, però. La racconterò più tardi. Continua, per favore. Al professore piacquero molto i risultati dell'incrocio. Jack parlò di nuovo con il tono di un narratore. Lo scienziato decise che la selezione doveva essere portata al punto da ridurre al 10% la quantità di sangue di lupo in questi ibridi. Ma non aveva tempo. Quando arrivarono a 25? Il progetto è stato abbandonato, il che è molto strano. Questi animali sono più forti di qualsiasi cane da pastore, che è ancora la razza di servizio più comune. Perché su tutte le mani padrone e guardia, e la ricerca, e la detenzione, e la protezione. Ma se si fa un paragone con il cane da pastore, questo è in grado di recuperare una traccia dopo 6 o 8 ore. Questo è il suo limite. E il Volkasov trova l'odore dopo 3 giorni in uno spazio ristretto e individua una persona in 20 secondi contro i 4 e 6 minuti del cane da pastore. Sono stati testati ai confini con la Cina e la Mongolia. Si sono dimostrati brillantemente forti, poco esigenti nei confronti delle condizioni di vita e persino dotati di istinto da lupo. Per questo motivo afferrano rapidamente tutto al volo. In battaglia, vanno fino in fondo, senza mai tirarsi indietro. Sono stati utilizzati anche in medicina. Grazie a loro il fatto unico, possono distinguere il sangue di un malato di cancro da quello di una persona sana. Ma è incredibile! E la loro salute? Sono immuni alla maggior parte delle malattie canine. Vivono fino a 20 anni. Perché il progetto è stato chiuso? Chiede Mike. Dopotutto, la qualità è davvero unica per i cani da assistenza. Lo capisco anch'io, anche se non sono un cinologo, ma un meccanico d'auto. Chi lo sa? Jack agitò la mano. Come al solito, ci hanno tolto la parola e hanno deciso di non stanziare altri fondi. Il professor William è rimasto scioccato e sta ancora cercando di ottenere un finanziamento. Pubblicizza i Volkasov come meglio può. Ne ha cinque che vivono a casa. Ha pubblicato un video del branco che gioca con la nipotina. Sembra terrificante. Sì. In realtà, ci sono delle inquadrature molto carine di questi cinque imbranati con facce simpatiche che si spintonano silenziosamente e con concentrazione per coccolare la bambina. Non tutti, ovviamente, riescono ad andare d'accordo con cani di questo tipo, quindi diamo i nostri solo a professionisti del cinema o a persone che hanno già avuto esperienze con razze serie. E i prezzi che mettiamo sono solidi, così da schermare i proprietari, lasciando solo la fiducia nella necessità di un tale acquisto. Gina Neida è nostra, una delle migliori rappresentanti dei Volkasov. Non posso nemmeno stimare il suo valore in denaro. Abbiamo grandi progetti per lei. I suoi cuccioli dovrebbero essere il meglio del meglio. Vi siamo quindi molto grati per averla trovata e portata qui. La sua perdita sarebbe stata devastante per l'allevamento. Come ha fatto a scappare e perché l'ha fatto? Mi ha chiesto Nicolas e mi raccontò come aveva salvato il cane dai cacciatori. Quegli uomini mi dissero che l'avevano portata vicino a una casetta fresca e che lei era corsa lì dal cane locale. Ora capisco, non pensavamo che ci sarebbe andata. Ma c'è un lato positivo. Siamo solo noi ad essere intelligenti. Abbiamo cercato in tutto il quartiere. Non avevamo pensato a questo posto. In quella villetta vive un suo amico d'infanzia, Ephraim. Lo chiamavamo Ephraim e non credo che i nuovi proprietari abbiano cambiato il suo soprannome. Si è trasferito lì due mesi fa, acquistato da un uomo che capisce la razza. In questo cane dall'animale selvatico e già meno, è più gestibile dalla cucciolata di Volkasov con due quinti di sangue di lupo e cane da pastore. E quanto non si può fermare ora che il professore è fuori dal quadro, Jack sospirò. Ma stiamo cercando di continuare il suo lavoro come meglio possiamo. Vendiamo questi ibridi con un minimo di sangue di lupo a clienti privati. Ma, ancora una volta, siamo rigorosamente controllati. Nel caso di questo esemplare, è andato tutto bene, l'hanno ceduto tranquillamente e il nuovo proprietario l'ha portato via in auto. Ed è così che Naida è riuscita a seguire le tracce e a trovare la sua nuova casa. Sì, vi ho già parlato del naso dell'alcefalo. Ma è un miracolo. È una testimonianza dell'unicità di questi animali. E la loro fedeltà, vedete quanto sono fedeli. Quando è stata separata dal suo amico, ha percorso 100 chilometri per ritrovarlo. L'eroina della storia, Gina Sela, è arrivata in azienda con un'aria molto professionale e ha guardato Nicholas in modo molto espressivo. Poi spostò lentamente lo sguardo sul panino con la salsiccia. Rimase seduta per circa 15 secondi. Non aspettò il risultato e fece lo stesso trucco con Jack. Tutti risero. Era confusa, poverina. Beh, abbiamo confuso il Volkasov. A chi deve dare ascolto, a quali comandi deve obbedire e da chi deve chiedere il cibo? Disse Jack. A proposito di cibo. Questi animali hanno un rapporto speciale con il cibo, sono dei veri e propri mangiatori di cibo. Ma, si sa, quando si addestra un cane, si scopre prima di tutto per cosa il cane lavorerà. Sì, questo è il verbo lavorare. Alcuni sono pronti a fare di tutto per il loro giocattolo preferito, mentre altri sono pronti a fare di tutto per il cibo. I Volkasov sono così. E non è nemmeno necessario lodarli per le azioni corrette. Quando il cane esegue il comando, riceve una ricompensa, un bocconcino o una pallina. Ma si aspettano anche una lode. Se il padrone la esprime, soddisfatto delle azioni degli animali, allora è sufficiente. Ma il Volkasov si aspetta da voi non un'approvazione, ma un beneficio. La logica è così pragmatica, se fa ciò che chiede, cosa otterrà in cambio? E il cibo è un beneficio materiale tangibile per loro. Quindi, per lei, sono disposti a onorare il comando. Sì, in genere le piace mangiare, ha detto Nicholas. È stata la prima volta che le abbiamo dato da mangiare. Ricordi, Kate? Svuotò letteralmente la ciotola in pochi sorsi. Pensavamo che fosse morta di fame per tre giorni in una trappola al freddo. Qui si può mangiare di tutto e in fretta. Ma poi abbiamo notato che era come un buco, qualsiasi cosa le dessi, spazzava via tutto. È un'abitudine dei lupi, ci ha spiegato Jack. Si riempiono per il futuro, nel caso in cui non ci siano più prede, così può mangiare cinque porzioni alla volta senza crollare. Ma noi lo limitiamo. Certo, non è bene mangiarne tanti in una sola volta, ma è meglio mangiarli più spesso, sì, un po' la alla volta. A proposito delle vostre spese per il cibo e altre cose, vogliamo rimborsarvi e ringraziarvi per non averci permesso di uccidervi. Uno dei migliori esemplari della razza, molto importante per il suo sviluppo. Sembra patetico, ma è vero. Ecco a te e consegnò a Nicola su una busta. Il ragazzo aprì quello che si rivelò essere un pacchetto sottile. All'interno c'erano solo dieci banconote. Ma quante sono? Nicola non le aveva mai viste di persona. Il taglio è di 5.000 dollari l'una. Oh, ma dai! Sono davvero tante, disse Nicola se porse la busta a Kate. Lei la guardò e guardò Jack con sorpresa. Sì, 50.000, disse Jack rispondendo alla domanda muta di Mike. perché, credetemi, quel cane vale molto di più e se ha bisogno di aiuto siamo sempre qui per aiutarla. Grazie, disse Nicolas. È un sacco di soldi, certo, ma non rifiuterò. Vedo che vuole sinceramente ringraziarci e abbiamo bisogno di soldi adesso. Vede in che condizioni si trova, è un senza tetto, un disoccupato e il ragazzo raccontò brevemente gli eventi degli ultimi mesi. Jack era solidale. Parlarono ancora un po' di vite e di progetti e i ragazzi e Mike si avviarono verso casa. Gina si alzò e li seguì. Era il momento di fare gli onori di casa. Naida, dove porti il cane Jack? Andiamo sul posto. Il cane lo seguì. Poi si fermò, si girò, guardò Nicolas e si bloccò. Si accorse che non riusciva a decidere da chi voleva andare. Quindi dovremmo tenerla in braccio, disse Jack e mise Naida al guinzaglio. Nicolas si avvicinò al cane per salutarlo. Lei gli appoggiò la testa in grembo e lo guardò ansiosamente negli occhi. Cosa c'è, ragazza? Non so se ti rivedrò. Vivete felici e contenti. Comportati bene, mi ricorderò di te. Sei un cane molto buono e il più insolito che abbia mai conosciuto. Ciao. Nicolas si chinò e la baciò sulla fronte del suo grande lupo grigio, si staccò, si girò e, accompagnato da Kate e Mike, si diresse verso l'uscita senza voltarsi. La barriera si chiuse dietro di loro. E poi Nicolas sentì un ululato. Un grido disperato e forte, in cui sentì dolore e paura. Il ragazzo capì che si trattava di Naida, si girò per guardarla da lontano per l'ultima volta e vide che non si trovava sul territorio dove si stavano salutando, ma quasi di fronte a lui, spingendo via il marciapiede con le sue potenti zampe e volando con grazia oltre la barriera. Più avanti, in due salti, il cane volò fino a Nicolas e fece letteralmente cadere il muso e le zampe anteriori sulle sue ginocchia, cosa che non si era mai permesso di fare. Per il peso del Volkasov volato sulla penna, il ragazzo ha persino tremato e dopo il suo gesto è scoppiato in lacrime. Non sapeva cosa fare di questa felicità che gli cadeva addosso. Si sedette e si limitò ad accarezzare il cane, ma era come se lo tenesse con le zampe e ovviamente non intendeva lasciarlo andare. Guardò gli altri in modo così cupo e ostinato che persino Jack, un esperto conduttore di cani, si sentì in imbarazzo. «Beh, compagni, siamo nei guai», disse. «Alla faccia della selezione. Congratulazioni, Nicolas, sei stato scelto da un lupetto, quella che non è attaccata per natura. E ora questa bellezza è scappata da un amico e ora chiede insistentemente il suo padrone. Quindi, come professionista, sono molto soddisfatto dei risultati dell'incrocio». «Certo, ma nella situazione attuale non so cosa fare. la persuasione non servirà e nemmeno la forza. Nemmeno io ho idee», disse Nicolas. «Cioè, ho delle idee, ma non sembrano essere la risposta. Per ora posso portarla da Lily e Mike. È quello che abbiamo concordato. Ma non ci fermeremo troppo, ci rimetteremo in piedi e la mangeremo». «Parlavo solo in senso figurato. Anche se vorrei che fosse reale», sospirò Nicolas. «D'accordo, ti dico una cosa. Anche se la prendiamo e poi per miracolo troviamo qualcuno disposto ad affittarci un posto con dei cani, come farai a lavorare? Voglio dire, a levare cuccioli da lei. Ho paura di un cane-lupo incinto. Anche se i proprietari non ci cacceranno di casa, i vicini non saranno contenti di un potenziale branco di lupi sotto casa. Inoltre, ho un sacco di riabilitazione da fare. Come farà Kate a gestire i cani da sola? Considerando che va al sanatorio per lunghi periodi di tempo per lavoro e a volte dorme da noi. Quindi saremo entrambi lontani a volte». «Già», ha detto Jack. «Immagino che potremmo portare via il cane mentre siete via». «Ma non è una buona idea, perché i cani-lupo hanno bisogno di un territorio personale. Sarebbe difficile portarla fuori dalla casa a cui si è abituata. Qui è familiare. Ma vede, non considera più questo posto come la sua casa. E non possiamo andare avanti e indietro. Serve sempre un'auto. Cosa, mica, dobbiamo tirarla sempre?» Ha detto Nicholas. «Non mi dispiace dare una mano», disse Mike. «Ma non credo che sia una soluzione andare avanti e indietro». «Qual è la tua professione?» Jack chiese a Nicholas. «Architetto», rispose il ragazzo. «Oh, le scartoffie non sono la stessa cosa», sospirò Jack. «Pensi di poter gestire la contabilità, però?» «Non è troppo difficile». «E ho qualcuno che mi aiuta». «A che scopo?» «Di recente abbiamo cacciato il nostro contabile perché rubava e beveva. Suo fratello gestisce un allevamento di cani da pastore. Quindi falsificava i documenti, apponendovi il nostro timbro. Come se i cani avessero sangue di lupo. E lui e suo fratello vendevano i loro animali a prezzi molto più alti. Questo è relativo al costo di un normale cane da pastore, ma molto meno del prezzo di un cane da lupo. Di recente abbiamo appreso che, quando Ephraim è stato consegnato a un nuovo proprietario, ci ha raccontato che il nostro commercialista gli ha offerto un tipo di cane esclusivo a un prezzo insolitamente basso. Ha esitato, ha controllato, si è reso conto che c'erano dei truffatori che approfittavano di noi e ha deciso di avvisarci di persona. Ora dobbiamo trovare una persona affidabile che prenda il posto del commercialista. Pensa di poterlo fare con un poll di formazione? Potrei provarci, naturalmente, disse Nicholas. Se c'è qualcuno che può aiutarci, ovviamente sono favorevole. Sarei grato per qualsiasi lavoro. Ma dovrebbe comunque tornare a casa e portare il cane con sé, no? No, è per questo che mi sto offrendo di vivere qui da noi. La maggior parte del nostro personale non torna a casa durante la settimana lavorativa. È lontano e scomodo da raggiungere, è più facile stare qui. Io e i conduttori di cani viviamo in una casa più vicina ai cani. Il contabile ha una stanza nell'edificio dell'amministrazione. Sai dove c'è la mensa? Quindi benvenuta, se sei interessata. Il nostro precedente contabile vi aiuterà ad abituarvi. È andato in pensione sei mesi fa. È per questo che ci siamo messi in contatto con l'attuale stronzo. Tim è un ragazzo intelligente, è con noi da cinque anni. Sono sicuro che non si rifiuterà di aiutarci. Questo era l'accordo. Kate e Dina rimasero a casa di Lily e Mike. Da lì lei prese l'autobus per andare al lavoro, mentre Nicholas e Gina lavoravano all'asilo. Decisero di darle un nuovo nome, perché rispondeva meglio di Naida. Mike andava a prenderli nei fine settimana e loro andavano a trovare i loro figli. Passò così un mese. Il ragazzo aveva già imparato abbastanza bene la contabilità e il cane passava la mattina e la sera ad allenarsi. Durante il giorno riposava e, inoltre, una volta alla settimana prelevava campioni per vari analisi. La sera Nicholas la portava nella sua stanza. Non era lontana dall'ufficio, all'altra estremità del corridoio. Gina si rifiutava categoricamente di passare la notte con i suoi compagni nei recinti e la prima notte mostrò una tale forza di polmoni che Jack si svegliò e la portò nella stanza di Nicholas. Lì il cane si accucciò sul pavimento. Non c'era molto spazio e lei dovette dormire distesa lungo il letto, non molto comodamente, con le zampe rimboccate. Ma, a quanto pare, era così che voleva dormire. Non ci furono più concerti notturni. La vita continuava tranquilla. Tanto più inaspettato fu ciò che accade in una gelida notte di febbraio. Nicholas e Gina avevano un rituale serale a base di tè e fette biscottate. Più precisamente, era il ragazzo a bere la bevanda. Aveva al massimo cinque pezzi di frutta secca. E quasi l'intero sacchetto di le corni è stato consumato dal cane. Ma non solo per i begli occhi, Nicholas le dava comandi semplici che non richiedevano spazio per essere eseguiti, come stare fermo. È quello che stavano facendo quando, nel mentre, Gina si distrasse improvvisamente, tese le orecchie e si avvicinò alla porta. Stava ascoltando qualcosa. Poi guardò Nicholas, mise le zampe sulla porta e la raschiò, dicendo, fammi uscire, è urgente. Il ragazzo obbedì al comando, anche se non capiva cosa avesse dimenticato il cane in quel corridoio buio di notte. Non appena la porta si aprì, Gina ne uscì come una lucertola e si precipitò verso l'ufficio. Per qualche motivo era aperto, anche se Nicholas lo chiudeva sempre a chiave dopo il lavoro, perché vi erano conservati documenti importanti. Il ragazzo si avvicinò e vide un fascio di luce. Veniva dal piano di sotto. Entrò nella stanza e accese la luce e rimase sbalordito. La sua scrivania era come uno scudo contro il cane. Un tipo strano che puzzava di alcol. Sul pavimento c'era una torcia, apparentemente portata da lui e al centro della stanza, a bloccare l'ingresso e Nicholas, stava Gina, emettendo un ringhio bassissimo che gli fece venire voglia di bloccarsi e di non provocare l'animale. Chi sei? Chiese Nicholas con intelligenza. La sua risposta fu una filippica profana. Perché questo bastardo è qui? Lo straniero riuscì finalmente a spremere qualche parola decente. Dovrebbero essere tutti nei recinti. Che cos'è questa confusione? Barcollò, posò la sedia sul pavimento e vi si appoggiò per non cadere. Gina osservò attentamente ogni suo movimento. Poi Nicholas notò i moduli di pedigree sparsi sulla scrivania. Il sigillo del canile che evidentemente era stato appena usato è un mazzo di chiavi, una delle quali era quella dello studio. Era facilmente riconoscibile, perché la serratura era vecchia e la chiave molto lunga, con la testa triangolare. Da questo mazzo di oggetti il ragazzo intuì che si trattava del contabile precedente. Collega, per così dire, perché venderesti le forme dei tuoi cani su documenti falsi? Conosco la tua storia, disse Nicholas. Valeva la pena di impiegare il tempo necessario per timbrarlo. Avresti dovuto rubare subito il timbro. Pensavo fossi un invalido senza gambe, ma a quanto pare sei anche senza cervello, per giunta. L'uomo disse sgarbatamente, con un ghigno. A che diavolo mi serve un timbro? Ne faranno uno nuovo. Cambieranno il disegno. Questo verrà segnalato ovunque come non valido. i documenti sono migliori e più facili da prendere. Non si accorgono che mancano. Non è la prima volta che ne approfitto della stupidità dell'uomo. Entro in ricordo dei vecchi tempi, ci sono posti dove posso entrare senza essere notato. Questi idioti pensano che siano sorvegliati da recinzioni. Non pensavo che stavolta ci fosse un cane libero. Mettilo via e io me ne andrò. E non dire a nessuno che mi hai visto qui. Nicolas fu colto di sorpresa da questa insolenza. Chiamerò la polizia, disse. La fortuna volle che il telefono fosse rimasto nella sua stanza. Non pensò di prenderlo. Salta fuori dietro al cane. Vaffanculo, storpio, e vaffanculo, mi striscerai addosso, disse l'uomo, sollevando la mano che poggiava sul tavolo, affondando di lato e tirando fuori qualcosa dall'armadio con velocità fulminea. Nicolas vide il lucicchio di una lama. Era un fucile da caccia. L'uomo ubriaco corse intorno al tavolo e si scagliò contro Nicolas. Guardò impotente la morte che gli volava addosso e capì che non c'era modo di fuggire. E poi da sotto i suoi piedi Gina fu sospesa in una molla raddrizzata. Nicolas fu dimesso dall'ospedale quindici giorni dopo. avevano messo lì il ragazzo per riprendersi da un grave esaurimento nervoso. Jack e Kate lo raggiunsero in macchina. La ragazza sorrideva in modo enigmatico. Caro, sei radioso. Che cosa è successo? Chiese un po' al sorpreso Nicolas. Sorpresa! Kate ridacchiò. Ora lo vedrai e lo scoprirai da solo. andiamo! Jack, insolitamente silenzioso e a quanto pare anche lui intrigato, mise in moto l'auto e si diressero verso il canie. Sei in grado di dirmi cosa è successo? Jack ruppe il silenzio. La polizia non ce l'ha detto. Ovviamente, quello che hai detto durante l'interrogatorio. Mi dispiace, so che per lei è difficile ricordare. ma da professionista mi chiedo perché Gina si sia comportata in quel modo. E mi dispiace per il mi dispiace. Ero preoccupata per te. Sei la persona più vicina a me ora. Non c'è problema. Come vuoi chiamarmi? E credo che, sì. Possiamo parlare di quello che è successo. Disse Nicolas. Si prese un minuto per raccogliere i suoi pensieri e iniziò il suo racconto. Beh, il finale, sai, disse, e descrisse l'inizio fino al momento in cui Gina andò a difendere il suo padrone. Lui si affacciò nella mia direzione. Gina cercò di bloccarlo per un braccio, con ogni mezzo. Ma non per niente si lavora con lei nell'addestramento alla difesa. Ha fatto quello per cui è stata addestrata. Si ferma il delinquente e gli si blocca l'arto. Non lo mordi, non lo colpisci, lo tieni fermo. Lei ha seguito le regole, ma lui l'ha pugnalata al fianco. A quel punto Gina gli è saltata al collo. Avete visto cos'è successo? Nicolas riuscì a malapena a finire. E poi non ricordo bene. La gente è a corsa, è arrivata la polizia, qualcuno mi stava portando fuori dalla stanza. Pensavo che avessi portato via Gina, Jack. Ricordo che era seduta, non sdraiata, la ferita non era profonda. Allora, come sta? So che si è ripresa, ma è tornata in azione? Dovrai chiederglielo tu stesso, sorrise Jack mentre si avvicinava al canie, ma da una direzione diversa e sconosciuta. Nicolas non ebbe nemmeno il tempo di chiedere nulla. Kate e Jack scesero rapidamente dall'auto, lo aiutarono a salire sulla carrozzina e gli chiesero di seguirli. Arrivarono alla casetta di legno. Benvenuti a casa! Kate Rice Nicolas vide la rampa, capì che era lì per un motivo ed entrò in casa. L'interno era molto accogliente, sembrava un ordine portato da una mano femminile, vasi, plaid. Si aveva la sensazione che la casa fosse abitata. Ma era ovvio che le cose erano nuove di zecca. Allora, gente misteriosa, spiegatevi, chiese Nicolas scherzando. Beh, ascoltate, rispose Jack con un tono di voce. Per aver dimostrato coraggio nel catturare un pericoloso criminale. Va bene, ubriaconi e ladri. Tu, Nicolas, sarai ricompensato con una residenza privata. Davvero, Nicolas, stiamo mostrando a tutti questo posto. È il nostro sanatorio segreto. Si potrebbe dire che chiunque abbia voluto costruire case qui, lontano dalle gabbie e dai campi di addestramento. Ora abbiamo la tua capanna nel nostro mini villaggio. È stata lasciata da un membro del personale. Si è trasferito definitivamente in Polonia e ce l'ha venduta a un prezzo decente. L'abbiamo tenuta di riserva e ora abbiamo deciso di darla a voi due per sempre. Anche se non lavorate al canile. Anche se abbiamo offerto un lavoro anche a Kate in modo che non debba andare al sanatorio. Qui abbiamo sempre bisogno di qualcuno con conoscenze mediche. Stiamo pensando di assumere un paramedico per curare tutte le ferite e le piccole ferite. E ora abbiamo a disposizione una meravigliosa infermiera. In breve, vivere, amare e moltiplicarsi. A quel punto si fermò delicatamente. Oh, sto usando il nostro gergo canino. Beh, sapete cosa intendo, ragazzi. Ho sistemato la casa a mio piacimento. Mi dispiace, assicurati che sia pronto per te quando torni. Kate l'ha capito. Ho usato i soldi che ci hanno dato per Gina. Pensavamo di mettere una voliera qui accanto, ma lei è già qui in veranda e si è abituata alle aree coperte. Non posso buttarla fuori ora. Quindi vivremo con il lupo, ma non per ululare come un lupo, spero. La ragazza sorrise. Idina decise di rimanere con Lily e Mike. Erano tutti molto affezionati l'uno all'altro. La sera, tutto il gruppo va al tramonto, che è bello da vedere. Non ha ancora bisogno di un'operazione, il tumore non sta crescendo, a parte il fatto che l'anziana signora sta crescendo di dimensioni. Temo che non le diano nulla da mangiare, rada mangia qualsiasi cosa le diano, disse Kate ridendo. La sorpresa è stata un successo, sorrise Nicholas. Prendiamo un ala verde, allora. Kate, sposami. Cosa? Non te lo aspettavi? Beh, alla lunga ci speravo, ovviamente, disse Kate. Ma è anche una bella sorpresa. Sono d'accordo. D'accordo su cosa? O cosa? Su tutto. La ragazza rispose ridendo. Ebbero anche il tempo di baciarsi, quando si sentì un rumore di passi di qualcuno molto pesante. E molto evidentemente di fretta. I ragazzi guardarono in direzione del suono e di sicuro c'era Gina che volava verso di loro con la grazia di un elefante e riuscì a rallentare per non urtare la carrozzina di Nicholas. Poi, con tutta la sua forza, gli appoggiò la testa sulle ginocchia e cominciò a strusciarsi con il fianco destro e dalla sua bocca, dopo una lunga corsa, uscivano fiotti di vapore, la lingua penzoloni e persino la bava che colava proprio sui pantaloni di lui. Ma Nicholas non se ne accorse. Anche lui ricambiava i sentimenti, strofinava il cane dietro l'orecchio, gli accarezzava il naso stretto, lo abbracciava dietro il collo possente, toccava il gesso che copriva la ferita sul fianco. I due erano perfettamente felici. Gina era felice come una lince, quasi si arrampicava sulle sue braccia, volteggiando e strofinandosi. E i suoi occhi d'ambra brillavano di una gioia evidente, e anche di una tenerezza un po' meno visibile, nascosta solo per la loro gente, capace di vedere nel duro aconito una ragazza dolce. L'apice fu quando il cane lecò Nicola sconfoga su tutto il viso. Anche lei si sedette, guardò Nicola stordita, poi il pavimento, come se si stesse concentrando. Poi si alzò in piedi e si diresse con aria estremamente affabile verso l'uscita della casa. Sulla porta rallentò, si guardò indietro e sorrise in modo affascinante, con la sua enorme bocca dalle zanne bianche come la neve che scodinzolava una grande coda grigia. Sembrava che, se avesse saputo come fare, avrebbe fatto l'occhiolino in quel momento e avrebbe detto con tono stuzzicante. E tu hai detto che i cani lupo non si affezionano agli umani. Non è vero?